Allora, quello ricapitolando veloce che è successo nell'ultima giocata, avete mandato la Montero alla distruzione, la Montero esplosa circa, facciamo una distanza di tot chilometri, no no rimani lì rimani, è un far furbo. No no, sei lì che flutti, è esplosa, vedi che flutto, ha una distanza X che non è importante però comunque abbastanza distante per cui l'onda d'urto nucleare non vi corpisce, quindi sicuramente è una distanza maggiore di 2 o 3 chilometri. E nell'ultima scena Gabbro Davis si è buttato fuori dal portellone dopo che ha combattuto con l'alieno, con l'abominio e niente, si è buttato fuori però la nave esplosa, cioè si è buttato fuori troppo tardi quando mancavano tipo 20-30 secondi e per quanto ha dato botta di jetpack per allontanarsi il più veloce possibile, voi ovviamente questa scena non la vedete, voi vedete un bagliore per un secondo e poi vedete il buio un'altra volta, ok? Non arrivano né onda d'urto né niente e per ora sei fuori dai giochi, cioè quello che hai visto te Gabbro è che praticamente ti sei sentito come avvolgere, colpire da dietro da una forza disumana come se questo onda d'urto ti avesse colpito comunque nel raggio più o meno c'eri e hai perso completamente i sensi, quindi per ora sei fuori. Poi tanto ti dico, ti rinserisco io tranquillo, non sei morto te lo dico subito però per ora se no te l'avrei detto, non te nemmeno fatto già a questo punto. E nella stanza vedi il dottor, quindi ho sempre il nome Flynn, il dottor Flynn e il sergente Reed, ok vedi il dottor Flynn che si butta per terra, si passa una mano davanti, nei capelli, davanti agli occhi così piangendo e vedi che con voce proprio smorzata dal piante, dal dolore, dal momento proprio distruttivo per la sua psiche dice non ce la faremo, non ne usciremo a questo punto, non ne usciremo più, è impossibile, la nostra unica salvetta se n'è andata, indicando la nave. Guarda anch'io la direzione, cavolo, la struttura non si è riuscita nel suo intento. Eh laghi un casino Ferev, è davvero uno sbotto. Magari facciamo io e il meccanico mentre Ferev è giusta? Sì sì sì, va bene, non c'è problema. Ah quindi, Raya, secondo me dobbiamo toglierci di corsa tutta la tuta e correre verso il ponte di comando, così almeno saremmo difesi, come si chiama, la malchilia, sì, il sergente. Che ne pensi? Approvo. Ma io voglio domani, toglimi una curiosità, è da quando è iniziato tutto questo? Che rimani calmissima. Ma sono io che sono troppo vigliacco e nel frattempo sudo come un pollo allo spiedo? E spiegami com'è possibile e nel frattempo avviamoci. Quei nervi saldi. E alla Peppa! Comunque, ci avete ancora le tue addosso o ve le togliete proprio completamente? Io me la so tolta completamente. Quindi tolta, buttata lì, ok. Sì, tipo buttata là, pedate. Ok, andate verso il ponte di comando e arrivate, vedete che la scena che c'è, il sergente Reed seduta su una sedia, seduta su una sedia col fucile impulsi appoggiato sui braccioli, senza ovviamente lasciarlo nemmeno un attimo, che si guarda intorno e scuote la testa, ma non sta parlando, però lo vedete dagli occhi che è particolarmente furente. Il dottor Flynn che è buttato per terra e Cham? Io sono lì a consulare il dottor Flynn, c'è lì, un attimo, ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, portarcivi a tutti. È un TC7, non ho preso una parola. Se è messo vicino al dottore gli ha fatto coraggio dicendo ce la faremo, ce la faremo. Ok, ma come mai ti fa così? Non lo so, non lo so, eppure non c'è niente ricollegato di nuovo. Ora ti si sente bene, dopo un po' si vede che boh... Ok, no, è tornato ad avere della connessione su Discord, quindi va bene. Boh, allora ripeti. Ok, no, e prendo, sono lì vicino al dottore e gli fa, ce la faremo, non ti preoccupare. Ci sarà un modo per uscire da questa nave lo stesso, proprio su questa nave forse, non per forza nella nostra. Vedi che indica fuori dall'oblo e ti dice, l'unico modo per uscire da questa nave è esploso a non so quanti chilometri di distanza e si rimette a piangere. Non abbiamo, non avete delle capsule di salvataggio qui? Tutte le navi devono avere delle maledette capsule di salvataggio. Vedi che il sergente Reed parla e fa delle capsule di salvataggio, sono già sparate tutte quante fuori, non è il problema delle capsule di salvataggio. Questa nave ha un'unica, ha due piccole capsule di salvataggio per gli ufficiali sul ponte, per il capitano del secondo ufficiale che sono già state sparate fuori. E poi ha una capsula, vi ricordo che questa nave è la gemella della Prometheus, come avete visto nel film, a poppa, che però è completamente fuori servizio. Potremmo provare a riattivarla, a rimettere in funzione. Io penso che la cosa migliore che possiamo fare ora come ora è o rimettere in moto, andare nei generatori, nel reattore. E se non erro, forse quella ragazzina laggiù dei vostri, come ti chiami? Rai? Dice il sergente Reed, col cappellino. Sapresti rimettere in moto un motore Rolls Royce di una nave come questa? Posso provarci, non posso garantire niente, però comunque a breve forse arriverà la seconda nave che abbiamo visto prima dal terminale. Un'altra nave? Sì, c'è un'altra nave in arrivo qua. Qua potrebbe essere la nostra salvezza. Allora, visto che non lo sapeva, viene fuori così da nulla, fa, va bene. E proviamo un attimino, chi era andato al terminale di voi? Qualcuno ne capisce qualcosa? Non è il mio ruolo. Vedi che il medico praticamente è fuori dai giochi. Qualcuno si potrebbe rimettere al bridge, al ponte di comando e provare a ricontattare quella nave o vedere di cosa si tratta? Ci provo io. Sono l'unico con la preparazione, visto che la mia collega, qualche genio, gli ha fatto saltare il cranio. Ok, genio del male, ti dice. Non torniamo sull'argomento della tua collega, capito, Wilson? Noi, stai calmo, perché se no quel fucile, visto che mi hai stufato, lo prendo e ti apro a te il cranio. Sono stato finora a proteggerti, quindi un po' di gratitudine, almeno questo. La tua collega ha cercato di ucciderci finora. Un assassino è sempre un assassino. Sarete tutti d'accordo con me? Lei ci ha condannato a morte, probabilmente. L'ha fatto per una giusta causa, sicuramente. È viramento che noi lavoriamo per la corporazione. Lavoravamo, visto che il nostro carico è esploso, per colpa della tua collega. Qui nessuno lavora più per nessuno, dice il sergente Rides. Se c'è uno che comanda in questo momento sono io, rappresentando i marini coloniali. Vada subito a quella cazzo di console e provi a contattare la nave in avvicinamento. Come ti chiami tu con la giacchettina gialla? Ciam, qualcosa del genere? Sì, esatto. Ok, forse sei l'unica persona di cui mi posso fidare. Tieni e ti passa il rilevatorio di movimento. Fa punta per la porta e qualsiasi cosa arrivi. Dimmelo, subito, immediatamente. Ok, perfetto. Ne metto lì vicino alla porta. Te intanto vai laggiù e fai un tiro. Un test di Comtech. Quindi con tutti i dadi del caso. Vediamo un po' avanti i scenari. Aspetta, dove sei? Fammi chiudere qui. Dov'è? Wilson, Wilson! Sembra la palla di Dios. Wilson! Eh sì. Wilson! Wilson! È dalla prima partita che faccio sempre. Wilson! Wilson, no! Se morirei... Lo direte tutti in questa partita. È un pallone con i capelli. No! Ti vedrete andare via sul mare dello spazio. Vai, quattro dadi, quattro. Scusa la domanda sciocca. Chi è che deve tirare i dadi? Te. Allora... Devi tirare, infatti, i dadi. Guai, divertiti. Se la prova la fai te. Allora, la prova è un fallimento. Però ricordati che c'è sempre ritiro, se vuoi. Ti becchi un punto. No, 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 no. Nessun... Me la voglio tenere per qualcosa di più importante. Ok, tanto per ora ce ne avete tre tutti e il sergente... No, aspetta, anche il sergente... Anche il sergente c'hanno stress, buona. Ti da morire. No, il meccanico l'ha usato uno, non cominciamo. Io lo si è realizzato con... Ci ha salvato l'astronave il meccanico. Vedo che lei, signor Sotuttoio della compagnia, non è tanto pratico di terminali. C'è qualcun altro che ci ritende un po'? Ehi, sergente, moderiamo i termini. Vedi che ti... Stando a sedere ti punta il fucile in pulsi. Si sposti da quella consola. Qualunque cosa io dica, lei mi deve puntare. Fate voi. Io mi metto ad un angoletto e non voglio... Posso provare a ricontattare io, visto che sono stato il primo... Prova, se no ci proverò io stesso in qualche maniera, dice, picchiando sulla console, qualcosa succederà prima o poi. Tiro su Conte. Che poi la pace ha più abilità di voi. No, ce ne ha due. Sì, 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 su Comtec. Io mi sono messo seduto, arme già con computer e mi estrarlo completamente. Sì, dovrebbe essere, no? Aspetta, fai vedere. Sì, Witz. Voi, amicchia, c'è... Ed è, ha fatto tirare a lui, ce ne sette. Allora, due risultati. Allora, hai fatto due risultati. Quello che vedi dalla console, quindi il secondo, lo sai, il secondo risultato è sempre un bonus alla prova. Riconosci, chiaramente, tipo di nave, equipaggio, rota di avvicinamento che sta seguendo, il tempo in cui arriverà. Il tempo, partendo dal fondo, il tempo in cui arriverà, entro mezz'ora, massimo 40 minuti, esagerando, sarà qui. Alla velocità in G che sta andando. Equipaggio a bordo, 30, rota che sta seguendo proprio per intercettarvi, quindi non sta cercando di passarvi oltre o di sfiorarvi a qualche chilometro, proprio che sta venendo in faccia, incontro. Quarto, la nave si chiama Marlow, è una nave di Marine Coloniali. Una nave da guerra di Marine Coloniali. Quindi, 30 equipaggi di equipaggio, la nave si chiama Marlow, di Marine. Marine? Marine, ti dice se il gente lì scatta in piedi e viene a vedere la console, tipo. Sì, sta cercando di intercettare la nostra rotta e in un tempo massimo di 40 minuti dovrebbe essere qui. Perfetto, ti chiede, si riescono a contattare? No, sono ancora fuori, ci sono troppe interferenze dovute alla radioattività della stella, più il fatto che la nave esplosa alla Montero e comunque c'è delle interferenze, quindi no, è la risposta. Vai, vai. Io oserei dire che a questo punto qui siamo stati benedetti, iniziati a pregare. Penso che lì c'è la stessa sera abbastanza bisogno. Attendiamo l'arrivo dei miei colleghi dei Marine Coloniali e quando saranno a una distanza massima di un centinaio di chilometri proveremo direttamente a aprire un bridge e a contattarli. Direi che a questo punto non rimane da fare nient'altro che baricarci qui dentro, dice il sergente Reed, e attendere l'arrivo dei soccorsi. Ci è andata bene. Dobbiamo trovare qualcos'altro, però qualche altra arma. Un solo fucile non so che terrà a bada tutti gli affari. Concordo pienamente. E poi dovremmo anche recuperare il Davis, è là fuori. Concordo, concordo. Bravo, bravo Cham. E il sergente? Lei è la vergogna, anzi, me ne sto zitto. Do solo ragione a Cham. E ora mi ripunti addosso il fucile per una cosa santissima. Se avete così tanta voglia di morire, indicando Cham e Wilson, dice il sergente Reed, lo sapete che gli armadietti delle armi sono al piano di sotto. Potreste andare a vedere. Ve la sentite? Guarda, io so dell'idea. Noi siamo una ciurma diversa da voi. Noi tre andiamo alle armi. E lei, sergente, si barica col suo bel dottorino, capitano Coraggio. Cosa ne pensa? Lo sapete che se non vengo con voi non avete nessuna possibilità di sopravvivenza, vero? Disarmati. Questa cosa può essere anche lei, eh. Bisogna vedere in quale condotto uscirà l'alieno e chi prenderà. Visto che quando è mostro il nostro stimato capitano, lei si è girata dall'altra parte. Venga, lei della compagnia, si avvicini per favore e ti punta l'arma. Alzo le mani e mi rimetto seduto. Cedo alla violenza come al solito. Ti avvicini? No, no, mi metto seduto e io dico, io vado con Cham. No, 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 ti dice, si metta seduto su quella sedia, subito, immediatamente, e vedi che non accetterà nessun tipo di cosa, di altro discorso. Ah, vabbè, faccio quello che dice la matta. Ok, ti siedi, vedi che si avvicina, non te lo punta addosso, però lo vedi che è abbassato verso il suolo e ci metterebbe un attimo appuntato. Ed è tipo a quattro metri da te, di distanza. Vedi che ti guarda fa, lei ha detto, anzi diamoci del tu, tanto qui siamo tutti cani ad ammacello. Hai detto di essere, di lavorare per la compagnia? Sì. Da quanti anni? Ho perso il conto. Altre missioni di servizio per la Wayland aiutani, oltre a questa? Tante. Di quanti equipaggi hai fatto parte? Posso sapere i nomi dei capitani? Purtroppo c'è il segreto. Io non faccio come le, vabbè, Dodd e tu anch'io. Io non devo rendere conto, ovviamente, a lei, sergente, di chi ho lavorato io. C'è il segreto professionale. Però, vedi che accenna un sorriso come se tu stessi dicendo una cazzata. Io l'ho chiesto col cuore in mano. Visto che tanto sono morto, non si sporchi le mani. E mi lasci andare con Cham e Reia nell'armeria. Tanto lei non ha nulla da rimetterci. Anzi, scusa, tu non hai nulla da rimetterci. Tanto io sono un peso morto. Signor Cham, da quanto è a bordo con voi sulla Montero? Lui, da sei mesi. Fa parte dell'equipaggio a tutti gli effetti. Lo conoscete bene? Vi fidate di lui oppure no? Sì, sì, ci fidiamo di lui, anche se, guardandolo, è un po' una testa matta a volte. Ti fa veramente girare le palle. Però non si è mai rilevato essere un, diciamo, un approfittatore, uno stronzo. Cioè, il suo lo sa fare. Qui, come me, e come anche Rai e la stessa Davis. Siamo tutti, per cosa si può dire, una grande famiglia. Concordo pienamente. E qui si sta perdendo tempo. Per me ancora è viva la nostra capitanessa. Ok. Allora, secondo piano. Cham, armadietto del capitano Blake. Se mi ricordo bene, dovrebbe essere password 9430. Ci dovrebbe essere un fucile impulsi con due caricatori. Ok, va bene. Se ci fosse qualsiasi cosa ed aveste un contatto, uno, state lontani assolutamente dai condotti, dalle ventilazioni, dalle porte. Cercate di stare sempre più o meno sotto la luce, per quanto se ne possa parlare, perché lo sapete, la nave non è ancora del tutto attiva. E come seconda cosa, qualsiasi cosa, nel rilevatorio di movimento, tornate subito indietro. Ok? Ok. Ha un raggio maggiore rispetto a quello che aveva il vostro capitano. Non fate gli eroi. Se vedete altre cose che potrebbero essere i vostri compagni, sia chiaro che ormai non lo sono più, perché sono morti. Stanno arrivando i marini coloniali, quindi non sprecate le vostre vite e tornate qui. Vedete, per la prima volta, con la coda dell'occhio, che non l'avrebbe mai data a vedere perché c'è proprio un comportamento impassibile, proprio come ti posso di... marziale, militare, però per la prima volta le vedete tremare la mano. Non viene con voi perché si sta cagando in mano come tutti. Non ve lo darà mai a far vedere e non ve lo dirà mai, perché è un marine coloniale, fino alla morte. Però si sta pisciando addosso. Ok. Ok, sergente. Ha visto l'inferno anche lei. Ok, sergente, non si preoccupi. Se c'è qualsiasi cosa, torniamo qua. La pelle la vogliamo riportare a casa tutti. Ok. Andate in qualsiasi cosa, restiamo in comunicazione. Sì, certo. Ok, vado avanti io allora. Ovviamente. Vai, Cham, ti seguiamo. Vedi che praticamente te e Manu vai con loro o no? Sì, però volevo fare una domanda. Te quel personaggio ha detto che è al piano di sotto l'armeria. Sì. Siamo già al piano di sotto noi. No, allora al piano di sopra, aspetta. Al piano di sopra. Al piano di sopra, al piano di sopra. Sì, 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 è vero. È perché è montata storta rispetto alla Montero, è vero. Sì. Ok. Quindi andate alla stairwell e poi dovete salire praticamente alla stairwell quella su. E vi spostate. Vediamo un pochino dove si potrebbe andare, magari anche in una stanzetta. Allora, si va. No, ma aspetta. No, no, ho sbagliato io, ho sbagliato io. Tornate giù. No, ho sbagliato io. Un'era lì. Eh. Eh no, eh. Eh, infatti, no, no, ho sbagliato io. L'ammetto. Un'era, un'era lì in la stanza. Corporate. Corporate. Qui alla sinistra di Wilson. Ah, ok. Corporate suit. Beh, allora avanziamo pian piano per corridoi. Sì. Ora, vabbè, tu si fa tutto quanto un contemporaneo e mentre andate via con la coda dell'occhio, vedete che tenendo sempre un occhio verso la porta, il sergente Reed si avvicina per calmar dottore. Ora facciamo, eh, Gabbro. Te nel frattempo vedi che, eh, stai iniziando a riprendere un po' coscienza. Ti guardi intorno. Ovviamente sei nel buio più completo e immaginabile. E, eh, ovviamente per la distanza a cui sei, si parla veramente di chilometri, chilometri, chilometri. Poi ti immagini nello spazio, riesci a vedere nulla. Sei nel buio più totale. Però tramite praticamente una specie di bracciale data pad, qualcosa fissato al braccio, che hanno tutte le tute, riesci a vedere che, eh, è danneggiato il tuo sistema di spinta dietro il jetpack, ma funzionerà ancora. E la Montero è circa una distanza di un quattro, cinque, sei chilometri da te. Quindi comunque la spinta ce l'hai per arrivare laggiù. Però, eh, sei particolarmente, insomma, è come un doposborni, hai preso una bella botta, quindi ti sente particolarmente la testa e c'hai anche un po' di vista annebbiata. Insomma, sei stato investito da una botta nucleare, anche soltanto parziale. Più che altro, c'hai un dolore alla schiena disumano e c'hai paura che, tornando in gravità e mettendo i piedi a terra senza quella tuta, cadresti a terra. Perché quella creatura, quando ti ha scaraventato contro il muro della Montero, ti ha fatto male. Se tu non ci avessi avuto la tuta, magari ti avrebbe anche spezzato la schiena. O qualche costala, alla meglio. Comunque, te nel frattempo torni e rientra qui dal lato, insomma, dal ponte, no, rientri dal ponte A. L'ingresso era dal ponte A. Quindi rientri da su, che praticamente sarebbe la mappa quella sopra. E niente, praticamente scendendo per la stairwell. Dimmi te se vuoi fare qualcos'altro. Vuoi scendere e tornare al bridge? L'unico punto dove vi eravate lasciate all'inizio? Oppure, non lo so, vuoi girare per qualche stanza? Dimmelo, tanto comunque siamo contemporanea. Però io mi aspetto che siano tutti lì, in realtà non so che non ci sono tutti. Per cui vado al bridge. Ok, allora vai, ti sposti piano piano, arrivi al bridge, mettici pure il tuo personaggio. E niente, non hai contatti, niente, rientrano, è tutto. Ah, quando rientri te la levi la tuta o te la tieni sempre? Beh, sì, avevo pochissimo ossigeno, credo. Sì, quasi niente. Quindi almeno per forza tolgo il casco e chiedo aiuto a loro, anzi al medico, di guardarmi la schiena. Vedi che sia il sergente Reed che il medico quando ti vedono sembra di aver visto un fantasma, perché ormai ti aveva andato per morto dopo un'azione del genere. E subito il medico si tira su a sedere e ti viene a dare una mano, perlomeno a iniettarti un antidolorifico o qualcosa del genere. Il danno ti rimane però, perché ci vogliono più ore di cure. Però perlomeno il dolore diciamo che è andato via. Dove sono finiti gli altri? Ti dice tutto quanto quello che è successo, si sono spostati nella stanza qui sotto, nell'armadietto del capitano dei marin coloniali per prendere un fucile ad impulsi, ce n'era un'altra. Gli ho dato il codice e sta arrivando una nave dei marin coloniali a prenderci, quindi entro massimo una mezz'oretta, mezz'ora saranno qua. Sono andati senza armi e sono andati in tre sotto ordine del vostro corporativo, l'uomo della compagnia. Abbiamo soltanto questo, ti dice. Sì, ma siete barricati qua dentro. Sì, siamo barricati qua dentro e sono stati loro a voler andare laggiù. L'ordine era del vostro Wilson, l'uomo della compagnia. Comunque si rimette in contatto con voi là sotto e fa... Qui il sergente Reed, mi sentite? Sì, sergente, la sentiamo. Come sta andando là sotto, tutto a posto? Sì, tutto stranamente tranquillo. Per il momento. Il vostro pilota è tornato, un po' acciaccato ed ammaccato, ma è ancora vivo. Lei è tornata? È tornata, è tornata. Meno male. Oh, che bella notizia. Finalmente una bella notizia ogni tanto. Ma con il capitano e poi staremmo tutta la squadra di nuovo riunita, ragazzi. Crediamoci. Vengo a prendervi, ragazzi. No, forse è meglio che rimani nel bridge. Non so quanto ti convenga fare il corridoio da solo. Sì, noi abbiamo il rilevatore, quindi al minimo movimento torniamo subito indietro, non ti preoccupare. Arrivati... Mi dispiace, ma non ce l'ho fatto. Già tanto che sei tornata, non ti preoccupare. Sì, non ti preoccupare, era impossibile. Sentite il sergente che vi dice, se proseguite uscendo dalla stanza, intanto l'avete preso, è il fucile impulsi con due caricatori. Quindi decidete chi ce l'ha. E se scendete verso il basso, arriverete direttamente alla stanza del reattore. E se il vostro tecnico, la ragazza, Rai, la ragazzina, riuscirà a riattivare il reactor core, potremmo dare più segnali al bridge e provare a contattare la Marlow. Che ne dite? Ok. Ora siete armati. Signor Wilson, lo prendete il fucile? Va bene. Ok. Ok, come uscite nel corridoio, state scendendo verso la living area per andare verso il reactor core. Quando arrivate praticamente al corridoio, quello che fa sotto... No, no, metti di su, quello sotto chum, che praticamente è un incrociatì, e praticamente in quel corridoio lì sentite un beep. Cioè il rilevatorio di movimento si aziona e inizia a mandare diversi segnali. Mi fai fermi e ti faccio mettere un attimo giù in ginocchio, un attimo. Il segnale rimane lì fermo o si muove? No, no, si muove e sta venendo verso di voi. Sto venendo verso di voi. Ok, via, andiamo via, andiamo via. Torniamo al ponte, torniamo al ponte ragazzi. La vedo dura. Vedi che il beep si sta avvicinando e questa volta è doppio. E poi a un certo punto sembra che qualcosa si congiunga da dietro un angolo e diventa triplo. E si sta avvicinando molto velocemente. Si parla addirittura di... Lo vedi che è a 20 metri, un po' subito dopo è a 15. Poi scala veloce, è veramente veloce. Tempo che... Cosa fate? Partite a corsa verso il bridge? Eh sì, per forza. Ok, quindi le date le spalle comunque se partite a corsa... Sì, sto vicino al bridge, quindi vado tranquillo. Allora, però è una cosa importante. Come corri, Cham? Dando le spalle al beep? Oppure corri all'indietro, cammini velocemente all'indietro puntando l'arma? Cioè sono cose importanti. Fatemi capire. L'arma non ce l'ho io, io ho il beep e basta. Quindi magari c'ho le spalle, non faccio l'eroe, non so il pilota. Ok, quindi correte tutti a questo punto qui. Sì. Ok, non fate in tempo ad arrivare al junction questo qua sopra. Vi faccio vedere... Com'era per farci il bleep? Tiene di fermo uso. Ok. Qua giù? L'avete visto qui? Non fate in tempo ad arrivare qua giù che vedete che una creatura che ha queste forme qui... Dov'è? Eccolo qua. Che praticamente, vabbè, voi non lo sapete perché non l'avete vista. È la stessa che ha ferrato coso? Che ha ferrato Gabbro quando era nella nave. Però... Ok. Riconoscete la forma che era uguale a quel tizio praticamente scoppiato dentro l'armatura che avete trovato quando nel capitolo 1 siete arrivati a bordo della Cronus. Ok. E a differenza di quegli, tra 20 virgolette, zombie che avete combattuto nell'avventura nel capitolo 2, vedete che questo invece ha l'agilità dello stesso essere che ha preso il vostro capitano dal condotto. Solo che questa differenza di quell'altro era quasi il classico xenomorfo. Questo è più una via di mezzo fra un umano e uno xenomorfo. Però c'ha la testa allungata. Lo vedi che gira l'angolo, vedi che ti guarda con questi occhi bianchi, sembrano quelli di uno squalo, nel senso occhi senza vita che non trasmettano assolutamente niente. Lo vedi che gira l'angolo, ti guarda e praticamente con queste braccia lunghissime ti sarà tipo al massimo a 10 metri di distanza. Fa un salto per saltarti addosso. Il bello è che si dà la spinta con tutti e quattro gli altri e quando salta lo vedi che allarga ste braccia per tirarti in artigliata e qualcosa e c'ha delle braccia lunghissime che potrebbe quasi grattare le pareti laterali. Comunque hai il tempo di fare un'azione, di sparare senza malostrare niente, però ti accorgi che basterà veramente poco che ti sei addosso, toleso. Cioè nel senso se è veramente veloce, capito? Quindi in un altro round ti addosso. Ho un attimo qui, mi spiega che ho salvezza personale come talento. Posso prendere il personaggio che ho dietro e farmi da scudo? Guarda, te la leggo un attimino. Sì, 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 perché la salvezza personale mi dice questo. La tua salvezza viene prima di tutto, a discapita gli altri membri dell'equipaggio nelle vicinanze, se stai per essere attaccato o ferito e ci sono amici NPC nelle tue vicinanze puoi fare un tiro di Manipulate. Sì, lo puoi fare e prendi mano praticamente, sì. Eh, perché questo voglio fare, voglio essere 40 al massimo. Lo puoi fare, sì. Allora, tanto mettiti un punto stress. Ecco perché non ho ritirato il dado prima. È toleso, è 10. Allora, c'hai Manipulate, che ce l'ho di Stevia Art, perché sei quello della compagnia. C'hai 5 più 3, 8. Boia. Uno, 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 è ora, è bellino, in serio. Andata bene? Dov'è? Lo vedo. Ah, bene, proprio la scena che vedete è che questa creatura sarta, lui davanti è eroico col fucile in pulsi. Cioè, una dell'armi più potenti che c'è in questa ambientazione, se lo mette tipo a tracolla e sposta mano e lo tira davanti, no? Manu è una mezza segala, ragazzina. Cioè, te sei bello più, insomma, più corpulento, più arto, ce la fai. Poi, Cortino, che hai fatto? Lo sposti davanti. Il coso ti attacca. No. Allora. Oh, Dio. Mi sa che ti ho sventrato. Che fischiazio. Non ci vedo. Oh, che cazzo è? No, non v'hai visto un dato, un tiro così perfetto, Cori. Aspetta, ma non ti voglio bene. No, ci ho là in botti. Aspetta un attimino. No, no. Allora. Cioè, praticamente l'ha aperto un 2? No, devo tirare un D6 e vedere sulla tabella cosa succede. Però aspetta, poi c'è anche il bonus, eh. Che qua davanti sei ha fatto. Il bonus. E di Shakana. Non sono più in una nave, sono finito fuori. Scappa a negozio da Nicola, vai. Allora, 3. Ha fatto 3. Dov'è? Regolamento tabelle, attacchi. Allora. Il 3 ti tira. Praticamente. L'abominio prende la vittima. Ok. Prende la vittima, ti afferra. Praticamente vedi che fa? Sto salto disumano. Ti afferra, però poteva andare peggio, artigliarti, strapparti un arto, cose del genere. Ma non so, se mi vuole la mia figlia di testa, sono morto. No, no, no. Praticamente fa questo salto. Ti arriva praticamente, ti atterra davanti e con tutte e due le braccia ti prende e ti ti racconto la parete laterale a sinistra. Roll the attack using 9 base dice damage 1. Ok. Se l'atta... Ah, non devo tirare per colpire col mostro. Devo solo tirare un D6. Eh, questo non lo sapevo. Se l'attacco colpisce... Ok. Ti c'è niente in mano, no? No, c'ho la foto. No, c'ho la foto, c'è da madonna. Allora, tiro 9 dati. Era lui che c'era... Non dovevo tirare, eh, non dovevo tirare prima. Ti è andato di lusso, no? Il tiro di prima non vale. Allora, praticamente ti fa un danno. Segnati un danno. Quante ce n'hai in tutto, te? Mi sembra 4. No, danno 0. Lui non è mai... No, no, hai punti ferita. Totalmente 4. E poi, bello corazzato. Vai. Ti ha fatto un danno e fammi subito un tiro panico. Quindi devi tirare soltanto i dadi panico che c'hai, i stress. Quindi 5. E questa volta conta... È alla rovescia, è conta l'uno. È il fallimento. Non è... Cioè, basta che non fai l'uni, via, insomma. Eccoci. È detto, vai. Io direi che utilizzo l'abilità mia che ritira i fallimenti critiche. Una volta per partita? Sì. Ok, vai, però va. Quindi ne ritiro... Rifaccio tutto il tiro, solo uno. Cosa ti dice l'abilità? Aspetta. Ignora i fallimenti critici di un qualsiasi rovese una volta per partita. Ah, ignora? No, no, non devi ritirare. Ignora e basta. Ok, praticamente ti prende, ti tira, ti vola contro le pareti, picchi nel muro e cade a terra. E rimani lì steso prono per terra. Il tiro, questo qui, del panico, era per vedere se ti cagavi sotto e restavi bloccato, capito? Se perdevi molti più turni. Invece, questo turno l'hai perso, non puoi agire, però nel prossimo ti rimetti in piedi. Ok. Nel frattempo, che voi state correndo, vedete questa scena? Però siete voltati, correte in quella direzione, quindi non ve la devo descrivere. Anche perché il beep non lo senti del rilevatore di movimento, se non lo punti nella direzione giusta. No, no. Quindi la scena che vedete, soprattutto te, Ferev, vedi che sto stronzaccio, vedi, di Wilson butta davanti Rai. E praticamente quest'alieno, questo che si chiama un'abomination, vedi che la prende e la tira contro la parete, la schianta una testata contro la parete e casca a terra. Sembra svenuta, lo sai. È talmente veloce la scena che non la capisci. E subito dopo vedi che vi punta con occhi, ve l'ho detto, morti però allo stesso tempo che vi seguono. Sembra proprio molto intelligente come tipo di creatura e soprattutto strategicamente cattiva, che sa anche dove andare a colpire. E vedete che è pronta per fare un altro barzio e per buttarvi si addosso. Quello che c'ha alle spalle non lo sai. Però comunque da quello che hai visto poco fa, sta arrivando. Quindi... Sparagli! Dobbiamo andarcene! E te tiro il fucile contro. Che pensaci tu, ragazzo? E te metto dietro alle spalle. Allora, te fai un tiro... Fate un tiro contrapposto di agilità. No, intanto rimettiti su. Perché la creatura ovviamente si butta su uno dei primi. Quindi fate un tiro agilità. Fallo te, Wilson con meno uno. Ok? In movimento più agilità ovviamente. E poi lo stesso fa anche Cham. Quindi agilità più? No, te normale. Lui invece con meno uno perché vuole fare doppia azione. Ti vuole tirare cose e vuole scappare. Ok. L'ultima te non potrebbe utilizzare la salvezza personale e lanciarci pure Cham. Ma cosa c'era scritto? La posa una volta sola o... No, non c'è scritto. E allora la posa quando le pare. Lo potresti fare. Vabbè. Allora... No, poi... Quanto è il massimo scusa di panico? Cioè... No, no, no. Non c'è. Però poi quando fai un test e lo fallisci, si va a fare il tiro sulla tabella dello stress e più punti c'hai, più cose brutte ti succedono. Allora, faccio così. Prova a lanciargli... Mentre corro glielancio il fucile. Immagino che sta scegliando. Allora, tanto facciamo il tiro di Cham e quello sopra. Tanto non c'è bisogno perché la parte principale è te che corri e li tiri il fucile. Ok. Con l'azione che hai fatto, col tiro che hai fatto, non ce la fai né a passargli oltre... No, a passargli oltre ce la fai. Però il fucile lo tiri, lui non ce la fa prenderlo e finisce per terra. Vuoi provare a rifare il tiro e ti prendi un altro di stress? No, 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 no. C'è Benzesse-Cham. Io ormai l'ho passato. Ok, allora, passa lì oltre. Il problema non c'è. Passandoli oltre, te ti cade il fucile impulso ai piedi. Però comunque sei lì che lo puoi prendere. Manu ti sposta un attimino qui perché tanto te sei tramortito e vedi che questa figura qui, che è questo, ti si butta contro. Ok? Quindi anche a te ti salta contro. Se vuoi fare un tiro per sparare, per raccogliere l'arma e tutto, senza nessun malus. Mentre te che arrivi da questa parte, sbuca dal corridoio. Questo. Che ora ve lo ingrandisco anche. Lo metto via. E' un morfo brutto. Eh, mamma, che sfortuna che c'ho. Eh, vabbè, te l'avevo detto che arrivava una cosa da di là. Sbuca questo coso qui dal corridoio ed è qui. Quindi ora si vanno... Si vanno a fare... Il panino. Si, si vanno a fare gli attacchi. Intanto facciamo, a parte Cham, io e te, però, Wilson, facciamo un tiro d'agilità. Che si guarda come si va anche con l'iniziativa che muove prima o dopo. Mentre invece Cham si muove per primo. E te nel frattempo, Manu, se vuoi, ti sei rialzato. Quindi ti ti può mettere lì. No, giusto? Si, 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 tutte e due. Dico, agilità e mobilità sempre? Agility, no, no, agiliti, agiliti. Ok, quattro allora. Poi ci ripenso. Che sfortuna. Se tu non avessi tirato contro l'alieno, forse... Andogli, non era tutta questa sfortuna. Sì, ma io devo essere sempre... Hai fatto sei? Un ruolo. Sì, sì, sì. So figo, so figo. Quattordici e tredici, vai, hai vinto. Allora, intanto dimmi cosa vuoi fare. Però, ti sposto un attimino. Volendo potresti scappare nel Medlab o nello Scilab che c'è? Quale porta è quella più forte che può resistere? No, sono tutte uguali. Le porte sono classica chiusura stagna, però come ti avvicini, si apre e ti fa entrare. Poi se la vuoi bloccare, devi bloccarla te da dentro. Ti ricordo com'era in Medlab, però, eh. Eh, Medlab ci puoi entrare, ma devi stare attento a... No, 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 ovvio che non c'entro. C'è stanno i funghetti allucinogeni. Entro nello Scilab e provo a sigillare la porta. Ok. Guarda un attimino una cosa. Armatura 6. Ti dico un attimino cosa c'è. Siamo sul ponte, questo è il B. Giusto o è là? Questo è il B, no? Là, ecco, lo so. Allora, è lo Scilab? Sì, 2. Ci dovrebbe essere scritto, aspetta. Ok, è il 2, entri dentro la stanza. Allora, la stanza è completamente bruciata e qualunque cosa sia successa qua dentro, sembra che l'equipaggio della Kronos l'abbia data alle fiamme. Una creatura col corpo allungato in maniera anomala, ed aspetto vagamente umano, quindi riconosci essere come l'abomination, quello che c'è nel corridoio, risulta stesa al suolo completamente carbonizzata, ok? Quindi è come se qualcuno l'avesse bruciata. Ok, no, nient'altro. Questo è quello che vedi. Ed è la classica stanza, lo vedi un po' come era quella di Ash, dell'ufficiale scientifico, nell'anostromo di Alien, insomma, dove fai esperimenti e condurre esami del laboratorio. Comunque ci sono tavoline, armadietti e cose del genere. Riesce ad entrare nella stanza, la porta si apre, ti si richiude dietro, però ovviamente se dopo tu la volessi chiudere, dovresti fare un'azione sul terminale, che tra l'altro in questa è fatta un'azione veloce, perché ti sei mostrato, ti sei spostato, l'alieno si sposta, non sai se ti sta cercando oppure no, dimmi te se vuoi provare a chiudere la porta. No, no, tanto non c'ho niente da rimettereci a chiudere, là, è una cosa istintiva, quindi vado là e si gira. Ah, si gira? Beh, si gira, insomma, ci metto il catenaccio che non si apre. No, 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 è tutto col terminale. Gli dico semplicemente chiudi a chiave. Allora, fai un tiro di, di cosa, di Heavy Machinery, con, è uguale come ce l'avevate voi, con più due. È come sulla Montero. Uno, uno. Poi si passa a Chum, che si può fare anche in contemporanea con Manu. Cazzo, l'hai chiamato. Giustizia è stata fatta. Meno l'altro ho detto con più due. Dai, ma come fai ad avere due? Scusa, guarda la scheda mia, c'è scritto zero. No, ma non posso... Allora, Heavy Machinery va... Però c'è due di strength, eh? Quindi devi tirarti due dadi. Ah, scusa, scusa. C'è anche la caratteristica. Giustizia è stata fatta. Ok, no, niente. Provi a sigillarla, però senti... E la lucina rossa, che praticamente non... Posso riprovare? Rifare il tiro? Poi riprovare, ti prendi uno di stress. E ritiri quattro dadi. Se fai uno, sei messo la merda. Beh, se fai uno... Ah, no, scusa, non tiri quattro dadi, ne tiri nove, perché cinque di stress più quattro dadi della prova. Quindi nove dadi. E scrivi, mi raccomando, roll, quattro di sei più cinque di sei. Ok, niente. È in karma. Praticamente sta morta... Riprovando è tutto, riesce a sigillare la porta e vedi, ti metto leggermente sotto, tanto se lì... Che si chiama, non mi ricordo mai nomi. Vedi il... Neomorph, il Neomorph adulto, che arriva davanti alla porta, vedi che ci tira un'artigliata, all'inizio a prendere a pugni, a botte, una testata e tutto quanto, prova a sfondarla, vedi che il vetro si incrina leggermente, un'altra testata, prova a romperla, sbatteci contro, ma non sembra abbastanza forte, non sono xenomorfi. Ecco, uno xenomorfo ce l'avrebbe fatta con un po' di pazienza e magari con un po' d'acido a tirarla giù. Questa invece non... non ce la fa. E ora si manda. Intanto sta perdendo il testa lì dentro. Ora, Manu e... e chiam. Ok. Io provo a... con l'arma, provo a caricarlo e ti puoi provare anche a passare oltre. Cioè, ti puoi anche tre agli una spalla e passare oltre. A quella creatura lì non serve... non servirebbe un genio per capirlo che se ti prende ti spacca in due. Perfetto. Quindi, lo puoi provare, eh, a fare una prova, però, se ti piglia... Ricordati che c'ha anche l'abomination, c'ha armatura a sei, però te gliela riduci c'ha tre gliela di mezzi perché il fucile impulsi c'ha proiettili armor piercing. Eh, ok, però purtroppo non so sparare con il coso io. Eh, quello tiri i codati normali senza bonus né malus. Posso provare tipo a distrarlo. Eh, allora, ditemi, visto che vi faccio a G in contemporanea, cosa vuoi fa, Manu? Mettetevi d'accordo V2, dai, per l'azione e poi si fa. Io, allora, visto che... Ci provo. Beh, devo fare prima te? No, non so. No, io volevo calciarti il fucile, volevo. Non so. Però poi ci rimani, è così. Ma cos'è, è un pallone per il fucile lì? No, vabbè, dai, provo a prendere il fucile allora. Cioè, gli prendo e sparare. Gli strago e te prendi il fucile. Ok, quindi te, Manu, rimettete nel corridoio e come cerchi di distrarlo? Cosa fai? Vedi che questa creatura li sta correndo contro a lui. Cioè, c'è qualche oggetto che gli posso tirar contro qualcosa? Per quello che vedi nel corridoio, no, però puoi provare a tirarlo, magari, facendo casino, urlando, cose del genere. Sì, però... Prova a fare, visto che lo vedi che è buttato contro di lui ed è su una mente ed è un alieno pronto a fare un bagno di sangue. Prova a fare un tiro di... Cos'era? Comunicazioni, mi ricordo. Vado un attimino, eh. Anche perché correre e saltargli addosso non mi sembra un'ottima opzione. Prova a fare un tiro di comando senza... Con un meno uno. Con un meno uno perché non stai parlando con una creatura umana. Quindi... Due dati. Sempre puoi ritirare, al solito, se fallisci. Post. Yeah. Va a provare a tirare? Un po' a tirare il godo. Sì, sì. E beccati il punto e questa volta fai roll di 6 più... Roll 2 di 6 più 6 di 6. Tutto con la merda che ho appunto. Eh, niente. Questa volta qui è andata male, si fa il tiro tiro di panico. Quindi tirami. Allora. 6 di 6. No, no, no. Dovei tirare. Praticamente era... Porca te la mo' ricordo. Era praticamente il valore... No, il valore che ci avevi... Cosa? Di... Quanto c'hai ora? 6? Eh, sì. Sì, dovevi tirare un di 6 e aggiungerci praticamente il tuo valore di... attuale di punti panico. Ok, quindi un di 6 più 6 di 6. Un di 6... No, più 6. Perché il tuo valore è 6 ora. Quindi un di 6 più 6. Ok. Ha tirato? Dov'è? Sì. Ah, è in fondo. Era 10. Quindi è fatto 10. Allora, 10. Congelato dalla paura. Completamente bloccato. Sei completamente bloccato dalla paura e perdi tutto il round. E perderai tutte quante le tue prossime azioni. Quindi sei bloccato per questo round e anche per il prossimo e che ti caghi addosso. Sono invece alla merda. Allora, il tuo stress level incrementa di 1 e anche fai incrementare di conseguenza anche quello di Chum che non ti è a troppa distanza. Comunque sei bloccata completamente dalla paura e sei lì che tremi. Praticamente cadi a terra seduta e non riesci a fare nient'altro. Chum, spari? Sì. Ok, vai. Tira, tira i dadi senza bonus perché non sei un marine. Però, più uno. C'è il bonus dell'arma? Più uno, sì. Metto direttamente 4 di 6. Tanto io ce l'ho 3. Sì, sì. 4 di 6. Eh, che schifo. Vale sempre il coso che puoi ritirare. Però ci metti anche i dadi 5 dadi stress. Cosa vuoi fare? Io ce l'ho 4 dadi stress. Eh, però se fai il ritiro ne aggiungi uno e subito. Però se fai il tiro stress è giusto fa panico poi, devo fare. E se fai il tiro stress? No, se fai uno. Se ti viene anche un solo uno sul tiro stress, sì. E poi siete tutti e due morti. Siamo tutti due mesi alla merda. No, no, non lo rifovo. Tipo, mi sa ma mi so il colpo. Eh, lo missi. Posso fare qualcos'altro tipo un movimento? Eh, potresti muoverti, sì. Però, ade, lungo corridoi, perché la porta a mell'altro ce l'è bloccata dietro, quindi. Sì, vabbè, verso il corridoio sulla destra. Ok, vai, spostati. Vieni da me, vieni da me. Ti sposti, la creatura ti rincorre, svolta l'angolo, te ha comunque una certa distanza, svolta l'angolo, vedi che ti sta rincorrendo, per questo turno ce l'hai fatta a salvarti, il prossimo ti sarà addosso, non c'è cazzi. Quindi il prossimo turno se manchi il colpo ti prende. Automaticamente. Svoltando l'angolo, però, aspetta un attimino, eh, sposto tutti che voglio capire come è fatto. Sì, sì. Ok, no. Te si è scappato di qua, quindi, ok. Questa è ancora qui che sta picchiando sulla porta dove è Wilson per romperla. Quando vedi che a un certo punto si ferma, si abbassa, apre la bocca, tipo come se stessano usando l'aria, ti guarda, ti osserva, e poi a un certo punto vedi che si sposta e scompare dentro un condotto dell'ariazione e va via. Quindi lo sposto qua giù. E Manu, te si è bloccato un altro round che ti sta cagando sotto. Si inizia un nuovo round. Quello che ti sposto qui, eh, Gabbro, quello che vedete da un condotto che praticamente da fra il junction e nel bridge scende questo. Quindi dal ponte di comando vedete questo. Lo vedete scendere dal condotto, nessuno se ne è reso conto perché sono veramente creature molto silenziose e vedi che il sergente è tipo lì alla console che dà le spalle con il fucile impulsi accanto a lui, a lei sulla console dei comandi e sta cercando di contattare la Marlov e sembra che ci stia riuscendo. Vedi che la comunicazione forse perché è più vicina sta trovando linea e a un certo punto te ne accorgi solo perché il dottore inizia a far così e punta col dito verso la porta e vedi questa creatura arta più o meno sul metro e novanta metro e ottanta metro e novanta insomma una persona particolarmente alta e la riconosce essere subito come la creaturaccia che ha portato via il capitano e vedi che sta entrando dalla porta. Oh cazzo! E sparo. Prendi prendi il fucile impulsi spari verso la porta nel frattempo la creatura si sta avvicinando tira con armi da fuoco con un più uno. Il problema è che questo ha armatura grossa vabbè ti tira Il fucile a pompa lui No il fucile a impulsi il fucile a pompa l'ha perso nello spazio per la botta si ma è meglio il fucile a impulsi minchia! Allora io ti dico cosa succede ok? Però te mi devi dire visto che hai fatto un 6 in più gli vuoi fare un danno in più quindi non beccherebbe due danni ma ne beccherebbe quattro oppure gli vuoi fare tipo una condizione tipo uno stun o cose varie Tira si può ti dare Cosa? Che è più casuale perché io non posso non conosco la sua No 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 cioè decidi te gli vuoi fare più danni e quindi il danno è proprio danno subito immediato che gli fai molto più danni e c'è più possibilità di ucciderlo oppure gli vuoi fare tipo uno stun che ne so boh lo butto per terra oppure cerco di beccarlo una gamba per farlo zoppicare oppure boh potresti anche semplicemente Sì danni 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 ok che opzioni ci sono di effetti di questi qui o stun cose del genere o direttamente danni però prima devo tirare per la tabella per vedere come reagisce alle ferite aspetta dov'era ferite critiche no sì eccolo qui ferite critiche intanto intanto ti gli hai fatto 4 danni e col fucile impulsi che è armor piercing neomorf adulto c'ha 10 d'armatura scala a 5 quindi devo tirare roll 5 d6 e ti togli un danno quindi da 4 scale a 3 che comunque sono tantissimi in questo gioco anche con uno moi gli hai fatto 3 danni ferite critiche xenomorfio vabbè stitolo li hai manu tirami un d6 cosa implica il mio d6 per vedere la tabella come l'ha corpito ma reagisce ok è una cosa buona è una cosa cattiva quanto hai fatto 6 6 andiamo un poino boia l'hai spappolato instant death no bello ma la faccia praticamente hai preso il fucile impulsi con una mossa dettata dalla paura ma ti ci sei impegnato a prendere di mira o forse è stato il destino hai fatto un headshot in pieno e vedi questa creatura che gli esplode la testa cioè praticamente dalla bocca in su da metà bocca in su lo spappoli vedi che continua a venire avanti allungando le zampe le braccia lunghissime come per afferrare l'aria e poi casca al suolo e vedi che praticamente gli cola dell'acido molecolare che inizia a sfrigolare quando trova il ponte della nave il metallo spappolato dobbiamo stare attenti e tenere gli occhi aperti escono dalle fottute pareti vedi il sergente Reed che si volta quando ti sente sparare col fucile impulsi guarda prima te come dire che cazzo fai ti ammazzo poi però si volta e vede questo xenomorfo vabbè questo vi questo neomorf morta a terra con la testa esplosa ti avrebbe voluto ammazzare però poi ti mette una mano sulla spalla e fa grazie ci avrebbe ammazzato io lo ridò lo riconsegno questo è tuo vedi che lo prende gli tremano un po' le mani e ti fa te lo ripassa visto come spari tienilo te ti dice io continuo a contattare la Marlow punta la porta meglio così vai riesco a capire da dove è uscito quel quasi xenomorfo si si è un condotto qui qui praticamente nel collegamento fra il junction nel corridoio qui c'era un condotto da reazione e comunque vedi che era lo stesso che ha portato via il capitano quindi almeno il capitano l'hai l'ha vendicato si si anche bene allora alzo il livello di concentrazione per quanto meno possibile tengo d'occhio tutti i condotti che esistono dal soffitto nella stanza qui non ce n'è fortunatamente almeno nel ponte di comando devono entrare tutti dalla porta ok ok Manu se l'hai bloccato completamente e si toleso se vuoi fare qualcosa e poi dopo faccio Ferev no no fai prima Ferev che è più interessante no ma te non fa nulla allora lì dentro perché è in contemporanea perdi il turno mi guardo intorno e mi rilasso un attimo che sto sotto shock quindi allora vai tira spara e poi lui ti attacca quindi ti concedo lo sparo visto che ovviamente hai un'arma della madonna ti puoi difende e poi però ti addosso stavolta ti arriva quindi tira i tuoi dadi più uno per colpirlo quindi 5 di 6 e si 4 più uno come prima insomma prima però non hai 24 no no mi hai detto più uno ah pensavo io c'era quanto c'era io ho 3 più uno dell'arma quindi pensavo più uno fosse un altro aggiuntivo no 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 vabbè comunque dai te la faccio superare l'hai colpito e tira un di 6 gli hai fatto anche te i tu danni senza però nessun bonus particolare dimmi aspetta quant'è uno era monedetto eh per come riodo mi ero ammessi non è mai così tipo forse era quest'altro aspetta è vero non è mai c'è proprio ragione no no è questo cosa è finito i giochi allora hai fatto uno ah ok vedi che praticamente lo colpisci gli hai fatto due danni che comunque non sono pochi perché è una ferita critica vedi che gli apri uno squarcio nella tuta spaziale che è addosso tipo quelle dell'equipaggio ve l'ho detto della prometheus e praticamente vedi che il colpo è talmente forte che soprattutto lui stava caricando quindi non ci aveva anche abbastanza non era incollata al suolo vedi che lo sbalzi di lato casca per terra rotola praticamente ti arriva quasi ai piedi rotolando cadendo per terra e vedi che la ferita è bella profonda sta perdendo del sangue vedi anche questo comunque acido molecolare leggero non come quello delle xanomorfi ha perso il turno però lo vedi che già si sta rimettendo in piedi e nel prossimo turno ti sarà addosso comunque il danno che gli ha fatto è pesante l'ha accusato e ha lanciato un grido di dolore ok nuovo round manu ora puoi tornare a muoverti e la creatura la creatura si attacca e ti attacca ovviamente te cosa vuoi fare Ferev comunque te lo dico puoi provare se te mi dici scappo via a tutta velocità si va con l'iniziativa perché anche questa creatura ti rincorre se te vinci ti rimpiati dentro una stanza o scappi se invece vince lei ti salta addosso però se vuoi provare a insomma andare un pino veloce a passolo scizzata all'indietro a sparare non ce la fai a scappagli no no io infatti volevo tipo spostarmi indietro un attimo e sparagli cioè ma non proprio a scappagli proprio a tenerlo sotto e sparagli vai indietro di uno e lui ti viene addosso ovviamente ti incalza spara e manu invece vado verso il bridge vai verso il bridge per arrivare nel bridge ti richiede tutta quanta nazione perché è abbastanza lontano comunque appena arrivi nel bridge la prima cosa che vedi è che c'è questa creatura spappolata a terra ok quindi ci arrivo vuoi ritirare o un'altra volta lasci al destino eh no lascio al destino lascio sicuro? la scendiamo? perché ho paura del panico il problema è quello le danni non hai paura invece eh allora tira un d6 se non vuoi ritirare e dimmi il risultato che ti viene ok tiro un d6 5 5 ok tiro 6 dadi che fanno danno 1 quindi perché l'ho chiusa aspetta quanto ho detto di dadi? 6 6 ok uno ti ha colpito però senza senza sovradanno ti fa un danno intanto segnati un danno ok le cose quanti ce n'hai dimmi anche quelle che restano ce n'ho 5 me ne rovano 4 minchia e terminate eh sono il tank in teoria dovresti tankar quindi metto nel rosso metto 4 ah no perché praticamente ti salta addosso ti afferra per un braccio ok ti tira ti scuote quindi ti sbatte contro una parete con tutta la forza ti fa un danno però praticamente ti fa anche un danno critico perché è tartigliato al braccio e praticamente è arrivato quasi a strappartelo quindi senti un dolore lancinante inizi a perdere un casino di sangue dal braccio sinistro sei il mancino o destro? eh è uguale ma fai destro vai fai il mio destro bistro destro allora ti fa il sinistro per un rovinato il fucile impulsi però prossima volta che proverai a sparare non avrai più il bonus dell'arma perché c'ha un braccio completamente ferito ti fa una ferita critica al braccio e fai subito un panic roll quindi praticamente fai un tiro di panico con ferita critica aspetta un attimo eh allora no prima fammi la ferita critica scusa tirami due dadi da sei dove il primo sarà le decine ok quindi fai il roll due di sei e mi dici il primo quant'erzi è ondo 5 e due 5 e due quindi 52 eh porca puttana close ah bella merda ok praticamente segnati un altro danno sulla scheda ok segnato no ok 4 lo sto segnando ora 2 come 2 no 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 ti devi segnare i danni che subisci non quelli che c'hai ok ok vai fatto ok due danni ora fammi anche un tiro di panico e poi ti dico cosa succede quindi devi tirare un di sei più quattro un di sei quattro Wilson di merda allora hai fatto 10 6 ok come Manu sei bloccato per questo turno ti cacchi addosso e perdi anche quello successivo e la ferita è profonda quindi ti ha fatto una ferita mortale perché ti ha reciso un'arteria inizia a perdere inizia a pisciare sangue da morire e per ogni turno che passa perdi non solo un punto ferita perché stai perdendo occasione di sangue ma il braccio praticamente non te l'ha strappato dal corpo però è inutilizzabile quindi comunque ti ha rotto anche le ossa te l'ha frantumato quindi servirà un'operazione chirurgica grossa quindi il braccio sinistro è completamente fuori servizio Monko che ti sciondò accanto e non puoi assolutamente usarlo per fare niente e inizia a sanguinare come un pazzo e comunque caschi cade a terra ok nuovo round cosa fate? io no aspetta 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 te sei scordato del Wilson se no infatti te lo dicevo cosa vuoi fare? ah scusa hai detto nuovo round no hai detto te non faccio nulla sto lì no un turno perché devi essere coerente contro lo shock caro vai adesso prendo il comunicatore e comincio a strillare aiuto aiuto ci stanno ammazzando tutti venite qui allo scilab 2 aiuto aiuto lo sentite voi dal ponte di comando? cosa cosa volete fare? io riferisco quel che è successo ovvero che mi ha lanciato contro l'alieno vedi il sergente Reed che si volta e fa quel figlio di puttana bastardo lo ammazzo lo ammazzo con le mie mani cosa cosa facciamo laggiù sicuramente i vostri compagni staranno morende comunque siete tutti in contatto può parlare anche Ferev cioè l'avete sentito ha tirato ha tirato un urlo pareva un leone pareva dal dolore che ha assumito non lasciateci morire nello scilab c'è solo una cosa da fare che mi avvicino alla porta non fatevi gli acchi mi sentite? sì per andare verso di loro ok vedi vedi più o meno il sergente che trova un pochino di coraggio e ti dice guarda l'arma te la lascio se volete andare tutto quanto io non mi posso spostare di qua anche perché devo provare per forza a contattare la nave di velocizzarsi se no non ne usciremo faccio un cenno col capo se il dottore vuole andare il dottore dai bisogna un po' di coraggio ti dice davis vengo con te nel caso ci fosse bisogno di curare qualche ferita o iniettare un po' di morfina o qualcosa dietro passo al dottore un medikit dei tre che ho perfetto lo prende subito ecco questo potrebbe salvare la vita a qualcuno me lo sono tolto una domanda master ma qualcuno mi ha riposto o ancora io sto urlancito no no se non gli no per ora no se non ti rispondo a loro lo avvisiamo che arriviamo ovviamente ok perfetto sto vedendo a prenderti Wilson di merda grazie ragazzi ok voi intanto scendete e arrivate qui in questo round qui quindi mettetele pure uno sopra l'altro più o meno si e anche il dottore mettovi che vi segue quello che vedete perché è in fondo diretto al vostro corridoio nell'intersezione quindi lo vedete chiaramente vedete Chum Ferev che è stesa al suolo e praticamente questa creatura gli ha quasi praticamente strappato un braccio vedete sta pisciando sangue da morire c'è una pozza di sangue al suolo disumana e vedete che non contento di averlo stesa al suolo vedete che gli sarta sopra e gli molla un pugno proprio sul petto fortissimo con tutta la forza che ha quindi il corridoio questa distanza come distanza vedi che siamo su i 25 metri però te lo dico se spari e non colpisci ok ti faccio fare un tiro ti faccio fare un tiro di panico e se mi fallisce anche il tiro di panico che ha colpito lui invece che la creatura chiaro chiaro no era per capire se riuscivo già a sparare da lì o se era troppo distante no sparare sì sparare sì però adesso sono avvingiate ce l'addosso quindi se lo becchi lo becchi se lo manchi non hai colpito automaticamente Ferev però ti faccio fare un tiro di panico se me lo fallisci l'hai preso ok cerco di avvicinarmi un attimo di più se capisco che riesco comunque che c'è abbastanza tempo in questo round qui poi puoi arrivare a 15 metri di distanza guarda te lo faccio vedere sposto il dottore e praticamente vai qui capito come distanza e provi a sparare però il tiro è quello è sempre quello ok allora vabbè sparo e poi azione dopo sparo ancora meno uno più uno senza il bonus dell'arma quindi tiri con la tua abilità e basta ok vediamo aspetta devo cos'è cos'è che devo tirare e cos'era agility più più range senza bonus senza il più uno dell'arma quindi tiri pure fai agility più range combat nudo nudo e cru oh bello quanto ha fatto 2-6 ma che è lì di occhio di farco che lo fai veramente che bravo ma hai imparato a sparare così nella 500 unesima fammi capire t'hanno fatto sniper di di osa non esistono lo sniper di otto ti chiamavano non esistono stavano che sparano bene appunto è fin lo sniper di cosa di felucia l'hanno dedicato a lui allora l'hai colpito bene gli hai fatto 4 danni però devo tirare per l'armatura che in questo caso viene viene dimezzata e la mi mente vanteran 3d6 aspetta abomination c'ha 6 d'armatura quindi 3d6 roll 3d6 eh questa è merda praticamente ti ha annullato un valore perché ha fatto 2d6 vabbè comunque gli hai fatto 2 che equivale a una ferita critica e tira un d6 e ti dico cosa gli hai fatto roll 1d6 quant'è? 6 ancora è esplosato è marino ma cioè diventi marino dopo questa avventura ti tarroli subito vai secondo secondo headshot alla creatura che gli esplode la testa completamente casca al suolo lo vedi ci ha avuto un'altra mira della madonna davvero il cecchino e nulla vedete fereva al suolo che è messo male però questa creatura gli era vinghiata sopra e praticamente ferendolo vedete che gli esce del sangue che si ossida subito dopo quindi comunque sangue acido un altro punto ferita segne ti vai a 3 si e nulla vedi che ti inizia a bruciare i vestiti non è quello dell'oxanomorfo bruciava te più 3 ponti se ti avessi corpito quindi brucava tutta la nave compreso te questo qui invece è un acido molecolare basico lo vedi comunque non era ancora sviluppato però comunque una bella ostione te la fai ecco sicuramente una bella cicatrice sul petto ti rimarrà e ci vorrà un'operazione chirurgica per togliermela per te chiaramente mi ha posto aspettiamola così una bella ostione ti ha rovinato completamente la giacchetta comunque lo vedete buttata al suolo che sta pisciando sangue ed è quello che impanicato il dottore arriva a corsa prende il medikit e tutto intanto ti fa una morfina la prima cosa te la spara proprio in vena e ti benda il braccio e tutto quanto subito te lo dice il braccio te lo dico amico mio intanto qui siamo in una situazione dove nessuno penso direbbe una bugia a un proprio compagno non so se lo potrei recuperare perché cioè è praticamente attaccato per un lembo di pelle e l'osso te l'ha fratturato in tre posizioni differenti ok tipo io lo prendo con l'altro braccio sul sul babbro e fa non importa l'importante è aver salvato gli altri dov'è Wilson ti aiutare aiutatemi per favore qualcuno mi aiuti a tirarlo su lo 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 tirate su e tutto quanto e riuscite a bendare la ferita non recuperi i punti ferita ti ha fatto la morfina quindi riesci a sentire meno dolore però il braccio è bendato non perdi più punti ferita ma è inutilizzabile ok vabbè ora vai dov'è Wilson divertiti aiuto mi sentite sento rumori qui giù nessuno vuole aiutare il vecchio caro Wilson dov'è ci aveva detto prima che era lo Shilab eh chiedetelo dove era cioè no ma l'aveva detto prima quando l'aveva ah beh si ci diranno la sua Shilab datela giù non sono sicuro di voler salvare bisogna far gioco di squadra arrivate lì davanti e lo vedete lo vedete bello dietro il vetro con la porta chiusa che non si apre almeno quando va avvicinata e la chiusa dall'interno ciao ragazzi è bello rivedervi ciao ti vedo bene un cazzo io vedo un cazzotto ah il vetro però cioè no è chiusa quando l'apre quando l'apre no no è ancora chiusa allora vabbè allora non lo puoi non avete trovato armi però immagino ho visto quello abbiamo quello che c'ha intanto io apro la porta e abbraccio Raye dicendogli scusa scusa sono stato uno schifoso perdone allora tiro di combattimento corpo a corpo per mano senza modifiche tiro di agilità movimento per Wilson senza modifiche allora quindi cioè ti ricazzotta anche te quindi ma io chiedo scusa perché mi dovete cazzotta scusa eh intanto te lo tira poi te lo chiedi poi si cede poi dopo fa la domanda Dio lufone lo rinvia boom vediamo il risultato che fa lui con mobilità però è Wilson Wilson che dici ragazzo mio praticamente carichi il pugno con la forza che paventano ma sei il più giovane dell'equipaggio gli tiri un pugno in faccia con tutta la forza che gli arriva proprio diretto di obono chirurgico sul naso però vedi che alza la mano e te lo blocca con una forza disumana non te lo saresti aspettato da uno come lui però te lo blocca proprio alla Kenshiro te lo blocca te lo ferma il pugno tristezza ehi dai Kaila ti sei guadagnata il tu dai seppeliamo la scia di guerra e io faccio finta che questo berre Roma Milano diretto non l'abbia mai partito dalla stazione che ne dici solo se mi aumenti lo stipendio ovvio una bella gradifica e allora va bene sentite parlare nella radio il sergente Reed dal ponte che vi dice sbrigatevi a tornare al ponte sta arrivando la Marlow entro 15 minuti saranno qui se vi posso dare un consiglio da quello che ho sentito da parte di Rai quel figlio di puttana ammazzatelo sarà meglio che non monti a bordo della nave dei marini coloniali si fidi signor Wilson le conviene morire ora non le dico cosa le faranno quando la prenderanno i marini coloniali sapendo che cosa ha fatto cosa avrei fatto scusa ha sentito quello che ha detto Rai no per figlio di puttana ci ha traditi cosa ha detto con Cham si che mi ha lanciato contro l'alieno ma io non sono un marine potrei dire benissimo che lei è stata sempre sotto panico ha puntato un fucile a tutti ha ucciso anche altri membri dell'equipaggio direi che stiamo pari e tutti stiamo in silenzio io fossi in voi lo farei fuori se no lasciatelo vivere ci penseranno noi marine coloniali nessuno di noi è un giudice o una giudice io ti provo guardo malissimo mi sono sacrificato per te Wilson e poi mi allontano per verso la il cosi il computer per tornare indietro errare umano ragazzi errare umano mi dispiace andiamo visto che sono qui posso riattivare il motore sì ottima idea io e Kyla andiamo lasciami il fucile che copro Kyla mentre ripara il motore voi andate come andate verso il ponte di comando vedi che Ferev il elevatore di movimento rinizia ovviamente a mandare dei bip e vedi che c'è qualcosa che è sceso da un condotto non molto davanti da voi e quindi nel junction che porta direttamente al ponte ma questo te ne accorgi di già quando praticamente andate via dallo science sector dove c'era rinchiuso dentro Wilson e vedi qualcosa che una coda molto lunga che schizza dentro il ponte di comando e sentite delle grida disumane vedi dentro il ponte e riconoscete essere le urla le grida del sergente Reed che sta combattendo contro qualcosa toglietemelo di dosso toglietemelo lea corriamo corriamo abbiamo figlio quel cazzo di fucile muoviti vai tu avanti io rimango con ciambe qui ci richiudiamo nero io c'è comunque ciambe senza un braccio ragà dove lo che va poveraccio il fucile corro verso il ponte io dottore verso il ponte arriva all'incrocio si portate pure il dottore il dottore viene a corsa bisogno di una mano e voi cosa fate allora io dentro alla scienza lab e provo a chiudere la porta prendendo il fucile sempre de ciam redento perché io chiudi la porta un'altra volta si per forza ecco quel casino che è successo voglio divendelo non ti serve tirare questa volta la chiude automaticamente una cosa vorrei sapere se Kaila vuole andare giustamente a riparare i motori avviene con vai da solo allora scendi giù e vai nella stanza dei motori portati il fucile però ce n'avete uno solo glielo dai no il fucile preferisco tenermelo io per difendere ciam tanto a Kaila deve riparare non gli serve il fucile la prenderebbe alle spalle vabbè che è come umano vabbè te va lì e nel frattempo te va leggermente più avanti qui perché perlomeno vedi cosa succede nella stanza e vedi che ce n'è un altro ok come quello che ha fatto fuori prima che è lì praticamente che ha completamente smembrato il il sergente Reed l'ha ammazzato e vedi che è per tutto il sangue sulla console dei comandi e vedi lì abbassato al suolo che ti sta osservando cioè ti nota quando arrivi di corsa col dottore e tutto quanto però vedi che stanno usando il corpo del suo simile in terra e se vi ricordate ne era uscito uno dal petto del dottore all'inizio del quello blu si del dottor cooper ne era uscito uno e praticamente è questo qui è questo qui quello che era stato chiuso dietro dal corporativo che poi è è cresciuto quindi ce n'è ancora uno ok eh lo attacco eh beh tanto ci abbiamo Rambo perché ci dobbiamo vedi che la creatura ti corre incontro per saltarti addosso e ucciderti ma ovviamente il primo tiro è il tuo e ora poi ti faccio fare anche a te in mano i cose tira col bonus dell'arma col più uno ok e te e te manu nel frattempo fammi un tiro di heavy machinery con un bonus di più uno perché comunque lo conosci bene come motore ok colpito colpito allora lo colpisci facendo il danno normale e manu te riesci praticamente tramite console a riattivare praticamente tutte quante le celle del liquido che rimettono in funzione il reattore che vedi che piano piano iniziano a uscire tipo da delle vasche di congelamento e piano piano vedi che si iniziano a riscaldare e te inizia a tornare in funzione come se si stesse riaccendendo vedete che quasi automaticamente o poco dopo nel giro di qualche minuto tutte le luci della Kronos si riaccendono ora è tornata operativa ci metto un po' perché è 70 anni che è spenta però te invece lo corpisci tiro il dado da 6 si tiro il dado da 6 non mi ricordo ma quale è questo quant'è o mi di 6 5 vedi 5 ma la smetti l'altra volta l'handshot ma che cazzo è le pagherò a te sei soldato 76 di overwatch quando mette la ulti dio buono ma l'altro mi fa nemmeno ma me li fa usare l'alienio li posso usare a mia p io mi volevo divertire volevo fare un po' di straci mi è morta ancora uno no c'è più ora sono morto arrabbiato l'ho spappolato che cazzo mi devo dire volevo mettere la suspense adesso mi sento ragazzi mi sento salvo mentre loro combattono quindi lo dico al master si se sente un colpo forte e subito dopo cito testuale su tutta la nave eh signori oh mio dio hanno sfondato la porta l'ho provato io non so niente fa lui l'ho provato a distruggerlo si è mangiato ciamma oh mio dio come bisognerà fa un tiro mi ha sparato mi ha sparato mi ha sparato che cazzo stai gioendo no dimmi mi hai sparato è morto si diciamo lo gioco io ho sparato si perché ho tutto per i messaggi privati ho tutto a tutto schermo quindi non li vedo vai allora tira per per colpire ah ma brucia pelo posso sbagliare è buono tiri per colpire sempre perché bisogna vedere anche se l'arma si inceppa o cose del genere però ha brucia pelo ovviamente con un più due e lui non ha tiro di agilità nel niente se lo becchi lo becchi ah come 5 chi è ah no è come su x come 99% di prenderlo l'arma si sposta con più due e già l'arma da più uno quindi ci avresti un più tre in tutto quale devo prendere scusa dovrebbe essere agilità combat e agiti si range al combat quindi c'hai 5 più 3 8 se lo manchi con 8 dadi meriti la morte meriti ok lo colpisci gli fai due punti ferita che lo fanno andare a 5 automaticamente le danno una ferita critica quindi vai a 5 no 6 è morto bisogna vedere però cosa conferma la ferita critica tira due dadi da 6 e dammi il primo come decine per favore toleso ah io ho lui devo tirare è uguale fanno tirare a lui mi siete afferiti 2 di 6 il primo dimmi decine unità allora 3 più 5 35 ok praticamente il colpo lo prende in pieno al petto e praticamente lo incolle al suolo cade a terra sdraiato per terra in una pozza di sangue perché un fucile del genere è disumanamente potente e vedi che se non gli hai forato veramente lo stomaco poco ci manca e cade a terra al suolo e sviene con gli occhi chiusi quindi non sai se l'hai ammazzato o no ma si vabbè ma ci pensa il sangue no 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 un colpo del genere è la la buttata incapacitata se non è morto ci manca poco che fate? è qua tutta la pantomima che ho fatto quindi vi chiedo massimo gdr e voi dovete credere a quello che dico io ovviamente l'unica cosa gli concedo con un malus di meno uno perché non sono soldati però gli concedo un tiro di osservazione perché si vede che la ferita è di un fucile impulsi è di un'arma a raffica non è un'artigliata io teoricamente non lo posso aver sentito visto che è praticamente a due stanze di stanza che è uno spy fai un tiro di aspetta vediamo non è che magari lui deve fare il tiro di manipulation è infatti manipulation e facciamo un contrastato è infatti qualcosa bisogna tirare perché ora voi magari da quella distanza laggiù però sai col fatto che la nave è anche molto silenziosa si sentono suoni quindi fate un tiro è per quello che ho sparato e ho subito detto perché se no che siete deficienti no no quello va bene infatti lo contavo subito anche per quello il malus cioè però io non avrei sentito il rumore allora facciamo una cosa fate voi un tiro di wits ok con un modificatore di meno uno e loro scusa davis mentre manu lo tira puro perché sei più vicino ok quindi 4 mentre invece gabbro lo tira ok niente sicuramente qualcosa avete sentito però nel mezzo del casino della confusione il cazzo un altro quello che urla in radio non avete capito cosa è successo ok avete sentito lui che urlava quello si 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 ora spostatevi per dove volete andate manu è riparato funziona tutto io vado verso kyla gli taglio cioè gli vado proprio davanti allora bloccatevi nel junction ok la trovi praticamente che sta uscendo dal reattore e gli blocchi la strada no torna pure dove eri ok e nel frattempo gabbro ti è avvicino a loro e sei arrivato praticamente sei qui scusa aspetta lo sposto potresti arrivare qui io però se volessimo giocare di ruolo non mi sono accorto di niente e per cui l'idea che volevo fare prima era andare al ponte e cercare comunque di sostituire il sergente e comunicare con la nave che sta arrivando si si lo puoi fare ecco perché amo gabbro ecco perché amo gabbro perché ti ammazzavo no perché lui è come me nel personaggio ok niente lo vedi arrivare ti vedi in contromano col fucile in pulsi e ovviamente lui prima che fa qualunque cosa come come lo vedo io gli prendo l'arma e provo a sparaglie sì però sempre che scusate sempre che il dottore non si accorga di qualcosa ah no cazzo cazzo è vero è vero è vero è vero aspetta lì allora un attimino rifacciamola nel caso così avverta anche Manu aspetta è vero meno male ha fatto bene a Dill bravo il dottor Flynn che si è detto Witz 4 però voi eravate lontani col meno 1-3 me ne sono accorto perché mi sono spostato ho visto uno stronto che rimaneva lì nel corridoio sì allora allora te ritorna lì Manu è sempre lì che ripara ah la stanza del reattore è grande quindi ci avresti tanti pusti dove nasconditi cose del genere il il dottor Witz ve lo dice chiaramente fermi tutti fermi tutti l'ho sentito chiaramente il radio qualcuno ha usato il fucile impulsi qualcuno ha sparato c'è stato sicuramente un combattimento chi è che di voi ne aveva un altro e quindi se ne è accorto ok allora io corro verso il Shilab sì e arrivate fin qui in questo turno ok te cosa fai riscendi io riscendo e blocco Gaila eh te Manu invece dimmi se vuoi andare via o sei fatto perché ti riscrivo cosa succede l'hai sentito che qualcuno ha sparato ho capito o torni indietro o ti nascondi ma il dottor ha parlato per radio che lui dalla sala macchina l'ha sentito sì sì l'ha sentito il casino siete tutti in contatto via comunicazione via radio ok perfetto quindi è tempo reale sì allora mi nascondo ti nascondi sì ok te e la stanza del reattore ehm toleso fai conto è bella grande ok e c'è il reattore della nave che è centrale in un buco che va verso il basso capito cioè praticamente il ponte ci puoi lavorare qui dalle console però è sviluppato su due livelli ehm io guarda c'ho una chiave d'accesso come mia principale sì ehm cerco c'è un modo per provare a sovraccaricare i motori cioè capisci cosa voglio dire lo voglio far esplodere il motore non c'hai abbastanza conoscenze lo puoi fare ma ti do un bel malus però sì ci potrebbe essere la possibilità sì sei uno della compagnia potresti poterlo fare ci sparo gli sparo gli rompo la barriera che tipo di motore è che potrei tipo se è un motore diesel gli sparo spacco il motore esplode tutto ah per esplodere il motore è un motore atomico quello allora se vai se vai tramite console ti faccio fare un tiro con un meno due una cosa del genere perché comunque non ci capisci un cazzo però potresti arrivare più o meno visto che sei un corporativo ha capito queste cose la nave della Wayland però se sei lì con un fucile di impulsi che è un'arma distruttiva l'hai visto il casino che ha fatto nel film Aliens è per quello che te lo chiedo se spari con quello è una roba delicata allora c'è la sicurezza che è quasi matematica che se la usi per sparare sul reattore lo spacchi il reattore lo sovraccarichi e lo rompi ma puoi fare reazione a catena come su Alien 2 quindi zumba per aria tutto se salta per aria il reattore inizia a saltare per aria tutta la nave ecco perché voglio fare salta per aria la nave ok si una reazione a catena all'attivi te Manu te Manu ti sei nascosto dietro delle casse ok da una sbirciata lo vedi entrare chiaramente lo vedi camminare col fucile in pulso in mano e sta andando verso la console sta andando proprio verso il reattore col fucile in pulso in mano ok siete arrivati in nuovo round che fate voi lì fuori entrate entriamo entriamo dentro noi sappiamo che è successo qualcosa non lo sai si entrate vedete il dottore che entrate lì dentro il dottore si avvicina lo controlla lo tasta gli tocca il petto tutto quanto prova ovviamente a dargli una morfina gli fa un massaggio cardiaco e tutto poi vedi che si gira o un altro medic scuote la testa e fa è andato non c'è niente da fare le ha vedi che praticamente gli tocca il petto e fa il petto è stato squarciato da un fucile impulsi da un'arma di grosso calibro sospiro l'unica porta è quella che porta a giocare di attore chiamo via radio rai ok sentite tutti è abbastanza chiaro cosa è successo chi aveva l'arma no cioè oddio mi senti mi senti meno male una voce amica tu non puoi capire cosa diavolo è successo pensavo che era un alieno ma è kaila che è impazzita mi ha afferrato il fucile sono mi sono dovuto nascondere nel med lab vi prego fate estrema cautela non pensate a me e nascondetevi kaila è pazza non fidatevi qui Wilson chiude nel frattempo te che sei lì Gabbro senti praticamente il dottore che inizia a urlare dal dolore anche lui vedete che lo vedete praticamente che casca a terra ti dà alle spalle si porta tutte e due le mani alla testa gridando e vedi che gli si sta iniziando a squarciare il cranio da dietro e la spina dorsale sta iniziando a uscire dal corpo capisci che quello che è successo al dottor cooper sta succedendo anche a lui mi preparo per colpire la creatura che esce vista l'esperienza vedi che ci metterà nel prossimo round uscirà comunque sta squarciando il corpo voi di là che fate? io non vedendo kaila punto il fucile a massima potenza sul motore centrale per fare quel discorso che ti avevo fatto mannuli sei a distanza 10 metri non ti ha visto sei dietro le casse e se tu volessi fare tutta un'azione tutta basata su un attacco ovviamente a mani nude perché non trovi niente la puoi provare a fare perché vedi che punta l'arma completamente contro il reattore che è appena riparato e poi basta e poi lui spara si fa un tiro di iniziativa un'altra volta ok fate un tiro di iniziativa con mobility tutte e due senza nessun modificatore mobility agility più mobility ovviamente tutte e due se fallite potete ritirare potete fare la riprova che merda eh però aspetta guarda quanto fa lui e poi tutte e due decidete allora praticamente ti sbuchi da dietro sbuchi da dietro il coso dietro l'angolo e praticamente lo prendi alla sprovvista lui non se l'aspetta assolutamente sbucando dietro la cassa li corri incontro cosa fai gli salti addosso cosa provi a fare dimmelo te si gli salti addosso gli salti addosso e lo prendi alla sprovvista e praticamente lo butti in terra lui cade con la schiena picca al terra praticamente a pancia in su te li sei sopra però lo vedi che tiene praticamente c'è il fucile impulsi fra te e lui capito lo sta usando per farsi da scudo e praticamente te li sei sopra e lui è sotto sente che c'ha una bella forza eh che non te lo sareste aspettato da un corporativo così da un cravattino tra virgolette prossimo round ovviamente mi dite cosa fate te nel frattempo ehm con la coda dell'occhio eh gabbro vedi che questa creatura squarcia eh il corpo ed esce completamente però con la coda dell'occhio vedi tra l'altro nel corridoio quello che sta succedendo il combattimento fra loro quindi con la tua azione decidi cosa fare la creatura comunque ha squarciato il corpo ed esce quello piccolino ma che comunque anche se è la metà di quell'altro fa male e riesco cioè ho il tempo di reagire per salvare eh Rai tutte e due no no aspetta sei davanti a una scelta tu non sai chi è cattivo fra me no quello quello non lo sai non battiamo col partito preso no 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 esatto esatto non gliel'avrei non gliel'avrei premesso io contro l'olio no ma che li vedo combattere li volevo separare io ti ho avvisato per radio che lei la cattiva no ma è chiaro quello che intendevo era vedo che loro stanno stanno azzuffando diciamo ma che è lei che ha attaccato a me io stavo esatto ma ho la creatura anche lì vicino non ho capito in che stato io ho la creatura se ho ancora il tempo per agire e separare loro o se invece mi conviene perché di no cioè allora il tempo ce l'hai però la creatura si è appena alzata no e praticamente tipo in posizione fetale in terra come a fine di Prometheus che si sta iniziando ad alzare però sono creature che anche piccoline appena nate sono pronte subita ad agire no a istinto di sopravvivenza quindi in questo turno in questo turno non ti attacca quindi se vuoi attaccare loro si no no però se vuoi attaccare loro attacchi e lei non ti attacca però nel prossimo turno ti addosso quindi comunque nel prossimo turno la scelta devi fare per forza il pericolo imminente sono le creature non sono loro per quello che so io guarda allora tagliamo tagliamo la testa al toro allora visto che nessuno ha visto niente fammi un tiro toleso wilson di manipulation con più uno perché nessuno era presente con te a parte chum nella stanza manipulation con più uno e se fallisci può fare il ritiro se vuoi col panico manipulation più empathy no? giusto? e su cosa va? empathy sta su manipulation quindi sarebbero otto dadi otto dadi più uno nove nove no perché te lo dico da quando abbiamo contattato la nave da quando avete la nave in dieci minuti è qui anche otto ormai praticamente la potreste vedere a occhio quasi ok niente no 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 ce l'ha il dubbio cioè non lo sai effettivamente chi è che potrebbe essere allora colpisco la creatura ok spari alla creatura ovviamente ti faccio fare un tiro con più due quindi più tre in tutto dell'arma perché ci fosse un fallimento o qualcosa ovunque mi serva a me e poi si tira per vedere come l'hai presa ha fatto più o meno come me hai detto più due sì giusto ok hai fatto un successo hai fatto che poi io st'avventura ve l'ho fatta così perché volevo andare più su narrative e tutto ve l'ho fatta in versione light perché nella versione veramente del gioco lo sai che ogni volta che c'hai un punto stress addosso fino a che un te lo togli tutte le prove che fai lo devi sempre tirare dallo stress non è soltanto nelle prove quando li ritiri perché quando li ritiri è automatico era vero no no ma non ve l'ho fatta più bello così il gioco deve essere divertente eravate morti alla seconda sessione non sapevo sì ma proprio un bigarby anche a dnd se ne regola un bigarby la cambio vaffanculo hai fatto no ha colpito ha fatto un dado da 6 immagino tiri il dado da 6 e i danni sono però aspetta prima devo tirare io per l'armatura perché forse non gli ha fatto niente se ce la fa resiste allora dove era lui c'ha di armatura no questi sono gli attacchi allora neomorf no bloodbuster che non è un neomorf è il bloodbuster armor rating 3 per difetto 1 quindi roll un d6 no niente due danni pieni quindi ferita critica tira al d6 oppure a vedere quant'è 3 allora è fatto 3 allora lox va bene parla come xenomorfi questa creatura l'è ferita pesantemente e senti che lancia un grido di agonia proprio straziante però compie subito un'azione quindi in risposta ti fa un'azione quindi fuori dal suo turno ordinario tira un d6 tirano te per me per favore due due praticamente vedi che ah ok automaticamente con un balzo proprio da che ti potresti aspettare solo da una creatura del genere che l'avete visti saettare per i corridoi proprio quasi velocissimi invisibili vedi che praticamente si alza in piedi ti salta quasi addosso ma vedi che non ti vuole attaccare ti evita e scappa fuori nel corridoio quindi batte in ritirata ok vedi che è andato via è scappato dalla porta l'hai ferito pesantemente ma non abbastanza da ucciderlo e vedi che scappa questa è stata l'altra azione ora bisogna tirare per ditemi cosa volete fa Manu e Toleso però a modo perché se dici prova a spingerlo via da addosso al mio corpo è diverso che prova a girare l'arma e sparargli capito perché l'arma è frapposta fra uno e l'altro fa da leva da protezione per te più che altro io provo a parlarci perché a me mi ha colto impreparato quindi non capisco il perché mi ha attaccato ma io ho sentito il discorso ok e te cosa fai Manu? continuo a picchiarlo lo picchi? allora io chiedo al collega ad aiutarmi perché faccio totalmente la vittima mentre lui mi prova non fai resistenza? no mi proteggo però senza attaccare nel senso cerco di debloccarla ah ok allora ti difendi senza cercare di ammazzarla ecco cerco di immobilizzarla fate un tiro fate un tiro di combattimento contrapposto tutte e due combattimento corpo a corpo sì intanto che d'aiuto vabbè quello quello è normale avete ammazzato il buon ferev era il meglio fate speriamo scopi sta navi di merda almeno vogliamo tutti vaffanculo no era il numero uno io che ho ammazzato io per dubbio ritiro vai ritira quindi ti prendi fai anche il tiro dei dadi quindi più più 8 mi è andata leggermente bene leggermente vai allora ma quanto malus sta adesso è 8 quindi tira quello che deve tirare più 8 di 6 buona De Hugo più io credo nel culo che non ho infatti ma il culo non crede in te fai tira un di 6 più 8 un di 6 più 8 per culo roto tutta strategia questa stessa non qui lui quello scatto su tre volte appunto smicotto se ti sto addosso più 8 di questa è la gattiverza la gattiverza 12 si allora intanto abbassati lo stress level di 1 e niente praticamente ti caghi addosso non si sa come praticamente sei talmente scioccata vabbè no dai tutti le lene che avete visto le cose che avete subito gente che esplode siete un po' allo stremo e tanto siamo quasi alla fine poi di che ore sono siamo all'11 e praticamente niente provi a picchiarlo però vedi che lui si si difende e te duplice stato emotivo completamente negativo da una parte incazzata nera perché lo vorresti ammazzare da una parte vedi che riprovi a picchiarlo non ce la fai nemmeno a difenditi a picchiare di buono un cravattino che lo piccherebbe anche un bimbetto allora fra lo stress inizia a urlare praticamente come una pazza e lui tranquillamente con spingendoti via ti butta a terra quindi sei completamente libero toleso e perdi il round successivo mano questo è fine del round ora round nuovo te l'hai vista sta scena eh gabbro ok vuoi andare prima tu gabbro no è contemporanea è contemporanea io sparo scusate sparo un colpo di avvertimento e grido basta smettetela dobbiamo andare via ma fate tutto voi io non parlo guarda caro caro la mia collega l'hai visto mi ha attaccato senza motivo l'ho solo spostata non so io neanche come ho fatto non prendetela con me anzi fai una cosa mentre io calmo Kaila e la lego perché mi sembra veramente sotto shock come hai potuto vedere insegui quell'animale lei sta urlando come? sta tremando si sta cagando addosso per ora non parla mano ok in seguito e terminano qui ci penso io fidati torneremo a casa fidati di me nel frattempo sentite il tutti quanti come si chiamano tipo no citofoni brutta di modo gli speaker della nave che iniziano a parlare perché si è riattivata l'ha riattivata completamente quindi ora la potreste anche tranquillamente muovere o lanciare una stella o sovraccaricare sentite parlare una voce molto autoritaria e sentite praticamente che vi dice qui è l'equipaggio della Marlow parla il capitano Blake ci stiamo avvicinando alla nave chiunque sia a bordo sentite un'interferenza come se la comunicazione fosse interrotta da qualcosa e poi riparte rimanete fermi e lasciatevi abbordare ripeto siamo il comando dei marine coloniali stiamo salendo a bordo quindi è imperativo restate fermi nella plancia nel ponte scusate nel bridge nel ponte di comando e attendete l'arrivo dei rinforzi stiamo arrivando stiamo per attraccare manovra di attracco in 10 secondi qui il capitano Blake chiudo Davis hai sentito? corri qui ci penso io prendo prendo Rai e la alzo e vado verso la bridge si intimo anche Manu se vuoi parlare puoi parlare però ricordati che il tuo personaggio è comunque emotivamente acceduto completamente però no però se va a parlare puoi parlare con i marines non si scherza andiamo subito concordo pienamente comincia a andare io vengo subito devo controllare una cosa per vedere se è tutto ok no dobbiamo andare subito non perdere tempo prima che arrivano non separiamo io intanto posso io nel frattempo chiudo la porta mentre lui giustamente sta ancora fuori dal reattore puoi fare un tiro però fate un tiro di iniziativa no no allora no continuo vabbè allora non faccio non c'è tiri ora di manipolazione l'ultima parte voglio che andate solo sull'rp Manu però se vuoi parlare può parlare però ricordati anche il tuo personaggio è stressato molto va bene allora comincia ad andare ti vengo dietro mi metto dietro a loro ditemi voi resto io nella retroguardia nel caso arrivasse ancora quella coppia no rimango io tu devi tu c'hai coso in braccio come fai a stare retroguardia scusa ok va bene non sospetto niente io ovviamente ecco quello no no sospetti non ce n'hai gli ho fatto farti una manipolazione però scegli te nel senso voglio dire ascolta non sospetti nulla però potresti anche dire io non mi fido di nessuno lo sai te come il personaggio il background l'agenda e tutto quanto capito la cosa principale è sempre l'obiettivo quindi seguite quello vabbè io vado verso il ponte con Rai e tengo d'occhio ma gli cammini davanti o gli dai le spalle a a Toleso sì però sto attento a guardare che non ci sia sto cazzo di alieno che gli consegnerà no no per ora non lo vedi allora mentre lui è preso a guardare l'alieno e a tenere in braccio la collega io ripunto dopo tanto ce l'ho sempre in mano il mio bel fucilone punto il reattore e che dio voglia a bruciapero sparo al reattore ok è impossibile non ti faccio fare il tiro perché comunque è impossibile mancarlo completamente impossibile perché è talmente grande che anche se sbagli ci va di rimbalzo lo pigli e quanto spari c'è un colpo ci scarichi tutto il caricatore no no tutto tutto deve essere proprio disintegrato pure io non me ne frega niente ok ve ne accorgete chiaramente te sarai magari dieci metri avanti però lo senti subito gabbro e lo sente anche manu e praticamente voltandoti vedi che lui sta scaricando perché poi il caricatore è un edda a 20-30 corpi è da 90 quello del fucile in pulsi e te boni boni nel caricatore ce ne avevi ancora 80 perché il povero chiam ha sparato po' nulla e sicché ce lo scarichi tutto e vedi che praticamente lo inizia a buccherellare placche di metallo cascano a terra vedi che subito le vasche quelle del raffreddamento che sono quelle che tengono l'ornocciolo del reattore schizzano si spaccano e praticamente schizzano praticamente questo liquido che ha contatto con la con la carena insomma col coso con i muri della nave congela addirittura riesce anche a congelare l'acciaio della nave proprio subito automaticamente ti colpisce l'osa del genere moriresti stecchito subito al contatto e vedi che il reattore inizia a diventare proprio rosso e vedi l'ornocciolo che si inizia a riscaldare e già nella stanza la temperatura già dal tu spare è salita di 20 gradi almeno già non ci si sta più cioè rischi veramente il collasso fisico e sentite questo che fa non ce lo metti proprio la nave ve lo dice stavorte il sistema di ristruzione si è stato attivato così fra 10 minuti la nave esploderà irreversibile mi accordo io che spara giusto l'hai visto si si l'hai visto sparare contro il reattore riesco a chiuderlo dentro al ponte scusa a quella stanza lì dove è adesso allora si diciamo che è in contemporanea però fammi un tiro di heavy machinery senza modificatori dimmi e butti per terra il compagno che gli sfasci perché giustamente ce l'hai in braccio e l'altro braccio c'è l'arma è vero quindi c'è tutte e due le braccia occupate gli devi metti il malus ho pensato a tutto vai vai a fare il tiro allora di heavy machinery con un malus il meno uno al solito fallendo puoi ritirare però ci metti anche il coso ah c'è vi due e basta ho avuto tre col meno uno ok niente vai lì metti praticamente metti una sequenza di numeri però più che altro c'è proprio un sistema di blocco della porta e lo chiude all'interno sparo sul sul pad per sul pad dove sono i numeri ok lo rompo lo rompi si 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 lo schianti completamente e lui è rimasto dentro nel nel generatore è troppo tardi la missione è compiuta stupidi umani vedi che è talmente calda la stanza il termostato esterno segna che nella stanza dove è lui ci sono 65 gradi e sta continuando a salire ora che te l'ho detto sono già 70 vedi che praticamente arriva una certa temperatura che la pelle inizia a liquefarsi quella che c'è addosso ok e vedi che non è quello che sembrava dopo tutto il tempo dopo tutto il tempo che ce l'avete dietro capite perché lo vedete chiaramente che si sta iniziando a scioglie che il buon Wilson era un sintetico un androide della compagnia stupidi umani la tua missione sarà finita morirete tutti prende fuoco prende fuoco si prende fuoco la tua missione sarà finita la nostra no andiamo Rai sentite una voce che comunica dal sistema radio interno della nave fa qui è il capitano Blake stiamo entrando sulla nave sulla sulla Cronus che succede? che è attivato il sistema di autodistruzione disattivarlo subito riesco a parlare cioè riesco a interagire con loro tramite i vari no tramite i cosi no dal ponte di comando dal ponte ok allora andiamo verso il ponte cerco di prendere il ponte c'è una squadra di sei marine coloniali che hanno attraccato dal ponte sono sul ponte A stanno entrando dal ponte ombelicale chi è che ha attivato l'autodistruzione? vi do un minuto di tempo per rispondere e poi abbandoneremo l'area ce la faccio? si si sei al ponte vai portatevi su vai 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 pure la nave è compromessa dobbiamo assolutamente evacuare dateci una mano siamo al ponte che vi attendiamo se dobbiamo incontrarci in un altro punto fateci sapere attenzione però la nave è in quarantena e c'è un pericolo a bordo va bene venite su siamo sul ponte A salite molto lentamente e vi attenderemo al junction a 1 ripeto salite con le mani in alto e molto lentamente o la mia squadra farà fuoco seguo ovviamente le indicazioni vai andate su al junction a 1 manu fammi un tiro di movimento di mobility mobility dove mi chiesto ok e 5 ovviamente gli do una mano si 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 allora scusa gli do una mano a camminare certo tira tira con un più si fai un più uno però se 2 è diverso ok tranquillamente niente ce la fai ce la fai a salire la scala non scivoli niente lui può ti dare la mano vai su e trovate lungo il corridoio praticamente davanti al portellone per entrare c'è sempre l'allarme si trovate una squadra di marine coloniali li vedete come quelli di allens contro finale ce n'è una addirittura in avanti bello bello piazzato che c'ha una pettorina di ferro bella pesa che attaccata c'è una come cazzo si chiamavano una una smart gun ok quelle praticamente che vanno in automira vedete che vi punta subito e dietro c'è una squadra tutti quanti chi con un lanciafiamme chi con un fucile impulsi vi puntano e dietro questa squadra da 6 c'è quello che sembra essere un ufficiale qualcuno perché vedete che c'ha delle delle mostrine sul petto ed è vestito comunque con l'armatura leggera che c'hanno tutti gli altri marini coloniali vi puntano le armi addosso vi puntano le torce addosso e vi fanno fermi chi va ad identificarsi mi identifico sono lì a Davis e sono la pilota della Montero ma la Montero non c'è più purtroppo non abbiamo tempo dobbiamo andarsene da questa nave immediatamente fai parte dei marini coloniali no chi ci fai con un'arma dei marini coloniali in mano per la data sergente come si chiamava non mi ricordo e Reed me l'ha data sergente Reed ma avremo tempo per spiegazioni dopo andiamo andiamo saliamo 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 a bordo della nave subito immediatamente saliamo salite a bordo della Marlow vi fanno entrare che praticamente è una nave come la Sulaco quella di Alien di scontro finale salite a bordo aspetta dov'è marotoglioni salite a bordo vi allontanate velocemente quando siete a distanza di 3-4 km vedete che la nave esplode salta per aria quindi la stessa botta che ha fatto la Montero questa la fa altrettanto se non ovviamente di più e vedete insomma la classica nave dei marini coloniali vi portano sul ponte una cosa in altre vedete che è mostruosamente grande quindi questa è veramente 3 se non 4 volte la Prometheus anche questa con vari ponti e tutto quanto e venite bloccati nel venite portati dentro una stanza per gli interrogatori ovviamente tutte e due venite ti tiene tolto il fucile in pulsi venite venite ammanettati te ti portano dentro una stanza con quello che sembra essere un ufficiale forse quello che ti ha parlato col comunicatore mentre praticamente Manu viene portato via e lo portano in nel reparto medico insomma per vedere cosa c'ha perché è in stato di shock praticamente un paranormal in più c'ha l'occhio sono bianchi e vieni portato nella stanza dell'interrogatorio vedi questo capitano che si presenta davanti a te e dice di essere il capitano Blake e ti si siede davanti ti c'ha le mani legate e ti fa nome e grado che grado ho? non lo so è pilota insomma quello che eri a bordo mi chiamo Lia Davis e sono la pilota della Montero signora Davis che cosa ci faceva a bordo di una nave scientifica scomparta 70 anni fa? stavamo la nostra missione era consegnare un carico che era appunto sulla Montero finché a un certo punto abbiamo trovato un messaggio di un SOS e quindi abbiamo iniziato una manovra di attracco sulla Cronos e abbiamo iniziato a indagare perfetto stesso messaggio che abbiamo ricevuto anche noi messaggio per chi stavate lavorando immagino la Wayland aiutani come posso leggere su sulle vostre divise purtroppo non ho alcun documento che possa certificare il carico che portavamo ma sì l'incarico ce l'ha stato assegnato dalla Wayland lo sa che avete appena distrutto una nave della compagnia del valore di 100 milioni di dollari attuali la metto sul suo conto non siamo stati noi a distruggerla è stato l'android che è ovviamente ancora una volta sì l'android noi lo conoscevamo come Wilson ma era un android ha disfunzionato ha disfunzionato e la nave esplosa perché un android ha disfunzionato sapevate di avere a bordo un android l'android ha sparato sul nucleo del motore della cronos e ha semplicemente destabilizzato questo motore finché appunto non è entrato in automatico il sistema di autodistruzione finché? non è entrato non si è attivato il sistema di autodistruzione vedi che a un certo punto ti guarda ti punta al dito sul pet e ti fa mi sa signora Davis che lei quando arriva nel gateway sulla terra avrà qualcosa da raccontare sia alla compagnia che alle Nazioni Unite che ai marine coloniali ma forse anche la well-and-yutani dovrà raccontare qualcosa visto che era corrente di una razza aliena aliena la Kronos la Kronos aveva raccolto una specie di olio nero che aveva delle proprietà sembra mutagene o qualcosa del genere non so spiegare perché comunque non fa parte della mia materia e del mio percorso di studio però abbiamo visto quel liquido entrare in contatto con delle persone e mutare veramente in modo mostruoso sia il metabolismo ma anche fisicamente le persone sono diventate veramente dei mostri e abbiamo dovuto difendersi purtroppo partendo anche degli amici a un certo punto si senti bussare sulla porta che avete dietro la porta praticamente si apre chiusa da stagna come c'era anche sulla Kronos e sulla Montero vedi entrare te non lo sai vabbè te lo dico vedi entrare uno con l'aspetto di Bishop di Alien ok quindi è un sintetico ma te non lo sai cioè non c'è niente che ti potrebbe dare l'input che quello sia un sintetico comunque lo vedi entrare a differenza di marine coloniali visto con una tuta addosso sembra quasi una specie di meccanico per farti capire vedi che sta vicino al capitano fa capitano se mi è permesso abbiamo un problema nel laboratorio la ragazza che è montata a bordo della nave insieme al pilota Davis sembra aver riportato a bordo un organismo patogeno o qualcosa del genere sembra particolarmente aggressivo le condizioni della ragazza stanno peggiorando la dobbiamo mettere subito nell'ipersonno penso che non arriverà al gateway sulla terra ok vedi il capitano fa il capitano dice va bene bishop mettiamola in isolamento chiudiamola nelle stanze del criosonno e portate in isolamento anche anche Davis facciamo tutti quanti quelli a bordo che sono saliti a bordo della cronus e che sono entrati a contatto con questi con l'equipaggio della montero vadano subito a farsi una doccia e poi passino direttamente dalla decontaminazione ci verniamo nell'ipersonno faremo le prossime quattro settimane fino al gateway ci risveglieremo laggiù e quando saremo arrivati vedremo cosa fare mi sa che voi avrete qualcosa di cui discutere direttamente con la compagnia ma prima prima passerete direttamente dal corpo dei marine coloniali questa è una premessa non dovete non dovete assolutamente metterla nell'ipersonno abbiamo già visto succedere ci lasci lavorare sappiamo noi come andare avanti non si preoccupi sicuramente non la lascerò a giro a infettare la mia nave quindi o la spariamo fuori nello spazio a scelta vostra o la spariamo fuori nello spazio o la mettiamo in criostasi io la sparerei fuori nello spazio e sospiro la sparerebbe fuori nello spazio non avete visto non avete visto cosa abbiamo visto noi sulla crono io so soltanto che a bordo della mia nave ho due persone che si spacciano per una missione di salvezza e parlano di alieni vedi che ti canzona come se tu stessi dicendo una stronzata magari infette da qualche virus e che hanno fatto esplodere una nave con un cargo tra l'altro stellare scientifico di un costo spropositato non vi basterebbero 100 vite a ripagarla quindi agli arresti portateli per sonno vedi che entano le marine vi portano via e ne riparleremo quando arriveremo sulla terra questo è tutto signore io cerco di divincolarmi e do il massimo ti tengono talmente stretta e puntata che se provi a fare azioni del genere ti sparano addosso portatele via ibernatele e poi ci iberniamo anche noi e procediamo verso il gateway fine avventura che figata non ve l'aspettavate che ero il cattivo della storia ragazzi ma in realtà io sì è un re ripartitato bene però guarda non mi sei aspettato di fare la fine dello stronzo una volta salito sulla nave no ma io io mi aspettavo che uno o due ero un po' tagliato che fossi un sintetico quando hai iniziato appunto a fare l'ultima verso la fine quando hai fatto le azioni quando hai deciso e il resto parlando come giocatore out of game certo certo ma perché però la scena del calore è bellissima allora avete avuto culo e sculo lo sai scusa scusa lo sai perché gli ho sparato eh no ovviamente perché semplicemente era arrivata la nave dei marines e me dovevo sbrigare e sapevo che il personaggio tuo mi avrebbe ostacolato per quello ho dovuto fare l'agenda ognuno c'ha la sua che tanto ormai è finita lui è morto si può rivela perché toleso mi ho fallito miseramente toleso era un sintetico ma non lavorava per la will and yutani c'hai capito no questo non l'avevate capito allora il corporativo che gli avete sparato alla testa ok quella la donna la bionda lei era proprio della will and yutani toleso no era della sigson quelli di di sevastopol è presente all in isolation quindi sono la diretta opposizione per quanto sono in rovina non c'hanno più una lira sono in fallimento comunque sono la diretta opposizione alla will and yutani e pensa che i primi cyborg prima della will and yutani l'ha fatti la sigson che sono quelli brutti che hai visto in isolation quindi lui non è lui quando ha saputo che questa è una missione della will and yutani è salita a bordo fingendosi della will and yutani per metterlo nel culo capito per distrugge tutto e ci sono riuscito a distrugge tutto caro però io nel bene e nel male perché questo c'è nel senso quello è successo però nel male perché l'alieny nel bene ti ha fatto tre headshot cioè l'hai scoppiato tutte e tre però nel male perché intanto magari anche Ferev non sarebbe morto ucciso così da un attacco vigliacco però a parte quella alle spalle però non hai dato il tempo a nessuno l'unico è stato Manu che poveraccio non ci hai riuscito di arrivare a far un punto ferita del cazzo a lui perché avreste visto il sangue bianco e poteva cambiare tutta l'avventura capito eh sì perché se Ferevato è sintetico cambiava tutto hai capito perché adesso ho messo davanti la bella Kaila e io non ho sparato non me lo potevo per me l'ho lavorato tutto sotto pressione proprio per non farmi sgavare da gente preparata come voi grazie a tutti